Bene, grazie a tutti per essere qua, questa è la quarta e ultima tappa del tour di presentazione del mondo felice non è utopia, l'ultimissimo libro di Corrado che è stato pubblicato intorno a volte con gli amici di Spazio Interiore, che sono tra l'altro qua con noi con la libreria oggi e anche domani. Questo è un dato un po' particolare visto che è anche la prima volta che Corrado terrà un corso sul PCP domani, quindi insomma ringrazio sia quelli che sono oggi ma anche quelli che ci saranno domani. Come saprete è una giornata che tutti aspettano con grande fervore, tra l'altro ci sono tantissime richieste in più, io giustifico qui dicendo che un'organizzazione di questo tipo con prenotazioni non posso prendere più gente di quella che che sta in sala, mi utilizzo domani, domani verranno giunte anche altre sedie, per esperienza anche quello di Erna come si vede ci sono molti no show e quindi chi fosse interessato e non ha avuto la conferma di prenotazione per domani non possiamo assicurarvi il posto perché io voi lo sento formalmente sono assicurati, però per esperienza se vi presentate qui alle 10 della mattina ci sono posti ovviamente potete entrare e vi ringrazio per la pazienza. Vi lascio a Corrado leggendovi nel libro cosa si è scritto, molto carino questo, nel momento in cui si prendiamo la responsabilità di noi stessi, iniziamo a giocare, a ripossessarci la nostra giostra e ci rendiamo conto che l'abbiamo costruita proprio noi, tutto diventa l'improvviso e incredibilmente divertente. Corrado Malagna. Allora, dunque con questa quarta puntata diciamo che concludiamo questo che è il tour, chiamato così, di presentazione di questo librettino che abbiamo costruito per diverse esigenze, perché devo fare una premessa, cosa che non faccio mai, però alla conclusione della premessa che devo fare. Sostanzialmente non è che mi sentissi preparato per affrontare un problema come questo che poi vedremo sarà il problema finale in tutta la nostra città, in Italia, in Italia e come è stato, perché si pensa che parlare di un mondo felice, dove felice non vuol dire felice, dove tutti sono contenti e hanno il sorriso ebbe destampato sulla faccia. Anche se in realtà ha una sua ben precisa collocazione in questa cosa. Il mondo felice è un mondo coerente con se stesso e nel dire coerente con se stesso devo dire armonico, cioè noi tutti sono in armonia con l'universo che ricircola, in armonia con la natura, se vogliamo, in armonia con tutto quello che siamo, perché noi siamo veramente i creatori dell'universo, la creatura è una nostra manifestazione. Allora, la cosa importante è comprendere come se noi abbiamo creato qualche cosa e non ce lo ricordiamo, perché ci sta che non ci se lo ricordi, potremmo andare in risonanza con questo tipo di creazione e quindi questo ci viene addosso, ci viene addosso e noi ci incazziamo con la creazione che noi stessi abbiamo fatto. Porta puntata, come mai oggi l'ascensore non funziona? Ma è una barbarità, l'ascensore non funziona perché tu vuoi che non funzioni e in questa cosa detta così può sembrare incredibile, ma come? Io volevo incendere, anzi salire, in ascensore invece l'ascensore non funziona, oggi è una giornata schifosa, diverta, si dice così, perché io volevo salire in ascensore e non posso salire in ascensore. In quel contesto la mia idea balsana è che l'ascensore non funziona perché noi non vogliamo che funzioni e non funziona perché c'è qualcosa all'un di fuori di noi che noi abbiamo creato che in qualche modo ci deve ricordare una problematica, qualcosa che a noi ci ha disturbato, ci disturba tutto il giorno e in quell'istante questo disturbo deve venire fuori. Quante volte io in passato soprattutto al lavoro sono incazzato con una verra e il computer mi si blocca, mi si blocca perché sono incazzato io, perché se no non mi si bloccherebbe, non non c'è nessuna ragione di farlo, mi si blocca poi per dire fermati, fermati, aspetta, calma, ragioniamo, vediamo che succede senza fretta, cioè impariamo ad analizzare quello che è il nostro futuro esterno, esteriode, perché dall'esterno noi abbiamo delle indicazioni, vediamo poi queste indicazioni quali saranno, però utilizziamo queste indicazioni per capire dentro di noi che cosa c'è che non funziona e lo riequilibriamo. La quarta puntata oggi è stata preceduta dall'altra puntata in cui abbiamo parlato di questa cosa che è il mondo felice. In un primo contesto abbiamo visto che cos'è il mondo felice, abbiamo dato le indicazioni fondamentali, poi per chi non c'è stata la prima, la seconda, la terza puntata, giustamente, pubbliceremo tutto su internet, che faremo un quattro puntate del mondo felice. Immaginate si scatenerà l'universo dicendo tutta la varia di cazzate che ho detto dall'inizio. Però, ecco, io vorrei, ve lo dico subito, intanto abbiamo tempo di dirlo oggi. Sì, io sicuramente sparerò delle cose non corrette, dirò delle cose non precise, eccetera, eccetera, però la persona che mi dice che hai detto una cazzata mi deve dire anche dove l'ho detta, perché l'ho detta e mi deve mettere la bibliografia delle cose, perché se mi dice solamente che ho detto una cazzata ma poi non la sa giustificare, strappo, tutto via nel cesso, sciacquone e via. Perché è così che si fa, cioè, te devi avere un minimo di credibilità, cioè, come te puoi credere una cosa, va benissimo, è meraviglioso, ma la devi giustificare a te stesso, soprattutto. È solo perché ti conviene credere che esiste Dio, non puoi dire ma l'angra ha detto questo, questo e quest'altro, per cui non ha capito niente, perché in questo, questo e quest'altro c'è scritto che Dio non c'è. È colpa mia se Dio non c'è, capisci? Però a te ti conviene che esista Dio, a te ti conviene che esista un universo che ti sgravi dalle tue responsabilità, che melaviglia la politica, il medico, l'ha detto il medico, l'ha detto la televisione, l'ha detto Gesù, oh, se l'ha detto Gesù, l'ha detto il direttore del dipartimento, oh, l'ha detto il direttore del dipartimento, e io davanti a queste affermazioni che la programmazione neurolinguistica conosce perfettamente e dice, guardate queste cose qui, tutte le persone che dicono l'ha detto Tizio, l'ha detto Caio, l'ha detto Semprovio, l'ha detto la Bruggera, il TG2, il TG1, la Bruggera, non ha lo senso, se non vengono evidenziate in qualche modo, chiarite, perché sì, l'ha detto, ma fammi capire se l'ha detto una cosa giusta, corretta, di contenuti oppure no, poi sui contenuti ne possiamo ragionare, perché c'è sempre l'universo che è un universo duale, un universo di destra, un universo di sinistra, vedremo fra un attimo che poi le cose non stanno così, e allora tu hai un'impresione di destra, tu hai un'impresione di sinistra lì confrontate e a seconda della consapevolezza che uno ha, trarrà delle conclusioni, ma dire questo ha detto una cazzata, ma non spiegare niente, dietro, punto, finisce il discorso lì, non mi dare anche la soddisfazione di sgravarmi dalla responsabilità di avere detto una cazzata, io sarei contentissimo di dire cazzate, perché se dico una cazzata va bene, ora pensaci te perché sei più bravo di me, io vado in pensione subito, no, te tocca continuare a dire cazzate, perché nessuno poi ti dice che cazzata hai detto, cioè guardate che è una cosa incredibile, siamo all'ultimo step, quindi abbiamo cominciato con dire che il mondo felice era questo, abbiamo poi nella seconda puntata creato il perché si deve fare un mondo felice, perché si potrebbe anche non farlo, che ci frega a noi, cioè se lo dobbiamo fare ci devono essere delle motivazioni, seconda puntata, terza puntata, tutto quello che in qualche modo poteva essere preso in considerazione di questo mondo che noi abbiamo che non funziona, quarta puntata siamo arrivati alla conclusione di Montalbano sostanzialmente, noi, e nella quarta puntata cerchiamo di vedere, possiamo veramente costruire questo mondo felice, che la cosa ci apparirà molto più semplice di quanto non possa sembrare, perché l'alte dice, sì, bello, meraviglioso, perché ci sono anche quelli che ti dicono, ah, ragazzo, ma non ti dice quale, è uguale, non cambia nulla, però ci sono anche quelli che ti dicono, quelli che ti dicono, sì, hai detto delle cose eccezionali, meravigliose, però sono irrealizzabili, ecco, nell'istante in cui te dici sono irrealizzabili, non hai capito niente di quello che ho detto, perché io dico, l'universo è fatto in un certo modo, noi siamo i creatori dell'universo, ma se siamo i creatori dell'universo noi facciamo quello che ci pare, quindi non è possibile che te mi vieni a dire, non si può realizzare, sono io il creatore dell'universo, il non si può realizzare io lo traduco nel se si può, ma a me non ce lo voglia. Allora è un'acqua di male, dimmelo così, non di dire, no, i meravigliosi sogni non si possono eliminare perché è troppo difficile, troppo complicato, come si fa? Quindi è utopico. Non ho mai capito se si dice utopico o utopistico, credo che non lo capirò mai. No, non me lo dire questo, perché allora rende in quello che gli ho detto cinque minuti prima, cioè io sono il creatore dell'universo. Quindi ci vuole chiarezza, soprattutto nel modo di fare una obiezione. L'obiezione deve essere motivata e allora ne possiamo discutere, assolutamente, perché questa non è una nuova religione, no, questa non è la religione che allora cambi le regole ma ci metti le altre regole. L'interno di questa cosa è che nel mondo felice non ci sono le regole. Allora c'è l'anarchia, ma che cosa vuol dire anarchia? Anarchia non vuol dire che non fa quello che cazzo mi pare. Anarchia vuol dire che in un mondo consapevole, cosciente e coerente e in armonia con l'universo, tutti poi faranno le stesse cose perché tutti avranno raggiunto lo stesso grado di coscienza. Quindi non ci saranno, almeno alla fine, nel mezzo ci saranno sicuramente cose da discutere, ma alla fine il mondo felice prevede che tutti siano legati a un unico aspetto della situazione, che tutti abbiano compreso in modo uguale. E quindi non ci sarà una religione di condominio in cui si dice cosa vogliamo fare, chi vota, la maggioranza, la minoranza. Non ci saranno maggioranza e minoranza perché tutti avranno lo stesso tipo di acquisizione di consapevolezza e andranno l'universo nello stesso modo. Non ci sarà, in parole povere, nessuna religione di condominio perché tutti avranno la stessa idea e andranno tutti nella stessa direzione. E però, mi dice, c'è si deve arrivare, va a una situazione leggenda. E innanzitutto, chi ha detto che ci si deve arrivare? La fisica. 2 più 2 fa 4, la fisica, la matematica. Ma la fisica non può pensare a come si muove l'universo, il mercato, la scuola, l'educazione, i unitari. A cosa servono gli unitari? Ci potremmo vedere questo e ce lo chiederemo tra un attimo. In questa lunga, permettetemi, introduzione. In realtà, le cose che noi dobbiamo fare sono molto più semplici di quando non ci si possa immaginare. Però si parte da un presupposto che è, secondo me, sbagliato. Sbagliato, in più tra virgolette, si dice così, cioè non c'è il giusto e lo sbagliato. Diciamo che io ho la percezione che questo presupposto non è corretto. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Gli istanti in cui pensiamo che una cosa è difficile perché non l'abbiamo ancora fatta. Gli istanti in cui pensiamo che una cosa era facile perché l'abbiamo già fatta. Questa è la sostanziale differenza tra il facile e il difficile. Allora noi possiamo farlo. Sì, però abbiamo i dubbi. Sarò all'altezza, sarò in grado, sarò capace. Si tratta di fare una rivoluzione, si tratta di impegnarsi in qualche modo, si tratta di... No parli che. Te puoi fare anche niente, tanto è uguale. Nel senso che le cose andranno nella direzione che noi vogliamo. E la direzione che noi vogliamo è la direzione che noi abbiamo creato. All'inizio dell'universo, se noi siamo creatori dell'universo, abbiamo fatto un progetto e questo progetto ci permette di dire il fotogramma finale è quello lì. Il fotogramma finale è il mondo felice. E il mondo felice si fa perché? Il fotogramma finale è legato a un concetto fondamentale di entropia. D'entropia. Secondo principio della termodinamica. Quando io dico questo, io capisco una cosa che ho capito dopo tanti anni, perché non ci avevo fatto caso quando studiavo queste cose. Principio della termodinamica, non teorema della termodinamica. Sapete che c'è una differenza della malordina? Principio. Vuol dire che non è dimostrabile. Teorema è dimostrabile. Il principio è così. Si vede dappertutto che è così. Non c'è niente da fare. È così. Sì. Allora, contestami quello che ti pare, ma il principio è un principio. E allora non me lo puoi contestare. Se te sei una persona che ragiona con il proprio cervello, con il nuovo sinistro, con la parte maschile, con la razionalità, con il mio più due che fa quattro, non mi puoi dire che io faccio un discorso encampato in aria. Perché il secondo principio della termodinamica ti dice il punto finale è il mondo felice. Lo vuoi? Non lo vuoi? chi se ne fotte. Quello è il mondo felice. E te, da bravo fisico, da bravo quantistico, da bravo matematico, da bravo professore universitario, non me ne frega niente. Perché quello è quello che ti tocca. O che ti tocca con la consapevolezza di te o senza consapevolezza. Chi se ne frega perché si va in quella direzione. Allora, il nostro problema non è stare a decidere se il mondo felice è vero, è falso o no. Ma è semplicemente dire, beh, già che ci tocca, perché tra tanzi lo abbiamo inconsapevolmente scelto noi, perché non si fa prima a farlo? Cioè, perché dobbiamo aspettare altri 13,5 biliardi di anni a quel tempo del diverso? Perché tutta questa cosa accada. Non si può fare domani mattina. O, magari domani mattina non si può fare. Tecnicamente. Però, invece di arci le martellate sulle palle per altri 13,5 biliardi di anni, potremmo arci le martellate sulle palle per un biliardo di anni. Cioè, in spagnale 12,5 biliardi di anni. Che non sarebbe malissimo. Allora, non possiamo mascherarci, chiuderci dietro l'idea che non troppo difficile non si può fare. Perché sui non troppo difficili non si può fare c'è una incoerenza tremenda. Perché se non si può fare ora non si potrà fare anche tra un miliardo di anni. Per fortuna, per fortuna, il secondo principio è la prima di anni, che appareva chiaro, andiamo in quella direzione. Cioè, tocca farlo. Tutto nasce, faccio una brevissima chiosa sull'aspetto della termodinamica. Tutto nasce nell'istante in cui la coscienza si è divisa in due. Nell'istante in cui la coscienza si divide in due, faccio un brevissimo riassunto delle puntate precedenti, ma brevissimo. La coscienza si divide in due, si divide per caso. Non è che Dio ha scelto di capire come l'ha fatto e allora ha creato un'altra immagini di sé per guardarsi allo specchio e per potersi mirare. Prima, quando la coscienza è unica, la coscienza non ha bisogno di niente, non c'è niente, di ogni ne fotte una mazza la coscienza. Però si divide. Perché è successo? È successo. Se non succedeva non eravamo qui a parlarne. È successo. Subito dopo l'accadimento, la coscienza nasce vedendo la dualità. E allora si chiede, porca puttana ho perso un pezzo di me. Perché è quello che si chiede. E ora come faccio? E ora comprende che in quell'istante di smarrimento, che prima non poteva esserci perché la coscienza non sapeva neanche cosa era lo smarrimento. Nell'istante in cui divide in due, subito dopo tu sai che esiste la dualità. Esiste il buono e il cattivo, il perfetto, il buono, il cattivo, il pieno, il vuoto, il alto, il basso, quello che ti pare. Il fascista è comunista. È uguale. Dopo quindi la coscienza prende consapevolezza della dualità. E dice bisogna che la studi questa dualità perché io voglio tornare ad essere uno. E allora cosa fa? Studia tutta la dualità, tutta la possibilità di dividersi, tutta la divisione. In qualsiasi istante noi ne siamo consapevoli, lo stiamo facendo, progettando questo lavoro. Noi lo stiamo sperimentando tutti i giorni, la dualità, la separazione, la paura, che è la stessa cosa, tre aspetti della stessa cosa. Nell'istante in cui abbiamo questo concetto fondamentale, la coscienza comprende tutto, comprende tutta la separazione e dice io sono il contrario. Quindi comprende se stessa, comprendendo per differenza quello che non è. In qualche modo non avrebbe altra possibilità, dal punto di vista geometrico, matematico, fisico, di farlo, che sei una sola cosa, che sei l'unico, l'unica cosa che esiste. Come fai a vedere come sei fatto? Ti dovresti guardare all'esterno, ma per guardarti dall'esterno ci dovrebbe essere un altro che ti guarda, ma l'altro non c'è. Dovesti costruire lo specchio, ecco, nell'istante in cui te costruisci lo specchio, lo specchio è la realtà virtuale, quella di cui noi siamo, è quella in cui noi inconsapevolmente, più o meno, ci spettiamo tutti i giorni. Da questo punto di vista, la cosa fondamentale è comprendere come quando io mi specchio nell'altro, e credo che l'altro sia un altro, mentre in realtà sono sempre io, la prematura è quella, la parte di specchio che mi appare è la parte sempre e solamente mia non armonica. Cioè, io sono bravo, bello, canso, meraviglioso, eccezionale, tutto quello che ti pare, quell'80% io non lo vedo. Vedi, il 20% di me è strozzo. Lo dico dualmente perché così ci si capisce meglio. Cioè, quando io parlo col vigile urbano che mi vuole fare la monta e gli dico, quello è uno strozzo, quello sono io, perché lo so che ho messo la macchina in un posto in cui non la dovevo mettere, è la mia coscienza, me lo dice, e me lo dice come? Facendomi incontrare un vigile urbano strozzo, che è la figura di me. Se noi ragioniamo da questo punto di vista, tutto quello che ci accade di buono, che noi vediamo, crediamo, che sia buono nella dualità del nostro modo di vedere, è in realtà la necessità che noi abbiamo di dimostrare all'esterno quanto vada bene, quanto è vero che abbiamo fatto bene a fare così. Dentro abbiamo dei dubbi, creiamo una situazione all'esterno che ce lo dimostra. Tutte le volte che troviamo qualcuno, qualcosa, una situation comedy che in qualche modo viene contro di noi, siamo sempre noi che ci creiamo questa situazione per dimostrarci guarda che deve risolvere ancora questo punto. L'alieno, tra virgolette, che abbiamo studiato many years ago, era la presentazione di tutto questo. L'alieno era all'istante, lo devo evocare questo ricordo, perché ci abbiamo lavorato 30 anni. L'alieno era il ricordo di cosa c'era un minuto non andava. Noi l'addotto veniva preso perché di nascosto inconsapevolmente nel profondo del cuore voleva essere addotto. Voleva essere addotto perché aveva deciso di fare questa esperienza. Aveva deciso di fare questa esperienza perché l'adduzione mi doveva ricordare qualcosa che lui aveva dimenticato di sé. Doveva ricordarmi che lui era una cosa solo, un angolo, un momento dello spirito, staccati, che una volta erano uniti. E attraverso l'esperienza dell'alieno, lui, lei, quello che era, avrebbe voluto ricordare questa cosa, avrebbe ricordato che era il creatore. Nell'istante in cui ricordi che era il creatore, che non ha bisogno di fulminare l'alieno, non ha bisogno di distruggere, non ha bisogno di fare la guerra contro l'alieno, questo è il te l'alieno, è la parte di te che te non hai capito. Non è che quando io dico questo poi su Youtube si trova scritto ma l'alieno ha detto che l'alieno non esiste. Io lo capisco quello che scrive questo, perché ognuno, quando io parlo, ma ognuno di noi eh, quando ognuno parla, l'altro lo interpreta secondo le sue legate consapevolezze. Quindi, tante volte mi sono trovato di fronte a soggetti che mi hanno detto, che hai detto questo? Io. Quando? C'è scritto qui. Io leggo. Ma qui non c'è scritto questo. Come? Non vuol dire questo. E dici, c'è virgola, questa virgola qui, che vuol dire un'altra cosa. Ah, non ci hanno fatto caso. Ecco, in quei istanti te comprendi che chiunque parli te lo interpreti a seconda del livello della tua consapevolezza. Non so se ci avete mai fatto caso. Prendete una convention politica. Una convention politica, l'idea è stato di sinistra, non ha importanza. Una convention politica, la stanza si lieve di persone che battono le mani. Sono tutti coloro che sono contenti di votare con il leader politico. Ma perché questa gente va a sentire leader politico? Loro sono dello stesso gruppo, della stessa appartenenza, della stessa idea. La stanza si dovrebbe riempire di altri, di quelli che non la pensano così. Tanto per così cercare di capire questo qui. Perché la pensa in questo mondo? Che mi frega a me, sostanzialmente, che la stanza si vede delle persone che la pensano come me. Non me ne frega niente. A me mi frega delle persone che invece non la pensano come me e che io al limite le potrei convincere. Oppure le altre persone potrebbero tecnicamente venire a sentire quello che dico per capire, si dico veramente del franzale, che ci sta. Invece no. Questo accade e non dovrebbe accadere, però ci fa capire una cosa fondamentale, che ognuno si spegna col simile. Simile a simile bus con creatur. E questo ci fa capire una cosa fondamentale, che sostanzialmente dall'esterno, l'altro, quello che abbiamo di fronte, è una parte di noi ed è sempre la parte di noi che ci deve indicare, perché noi l'abbiamo creata quella parte di ognuno a specchio, quello che di noi non abbiamo ancora compreso. quindi, il motivo fondamentale di questa cosa mi fa dire la seguente cosa, cosa che poi domani in un'altra veste, in un altro contesto stabilirei, nessuno ti può aiutare. Se tu hai un bisogno, vuol dire che questa è una mancanza di qualcosa, l'altro non te la può dare questa cosa, perché non ce l'ha neanche lui, perché l'altro sei te. Però, allora, non ti serve a niente confrontarti con l'altro. Sì, ti serve confrontarti con l'altro, perché l'altro, che sei te, ti dà a specchio un'idea di quello che a te ti manca. O che ti manca, tra virgolette, nel senso che non è armonico, che non hai compito, che non hai compreso. Ma non chiedere all'altro la soluzione del tuo problema, perché l'altro sei te e il problema, se non l'ha risolto te, non l'ha risolto neanche quell'altro. Allora, in questo contesto, tutti quelli che si fanno aiutare a fare i vari TGP, non ha senso. Allora, cosa facciamo qui noi? Noi ci confrontiamo, cioè io cerco di capire dentro di me che cosa c'è che non va guardandovi, pensate, e voi dovete capire la stessa cosa con me. Perché così si torna a casa tutti e che abbiamo capito qualcosa, al contrario di quello che si pensava. Io non ti do l'informazione che ti manca, io in qualche modo ti ricordo chi sei, che te te lo sei identificato, e voi fate altrettanto con me. Questo è l'aspetto fondamentale. Se le cose stanno così, possiamo provare a fare il mondo felice. Per fare il mondo felice bisogna fare mente locale. Sappiamo, ve lo detto, che è inutile dire no, questa cosa non si può fare troppo complicata, troppo difficile, aspettiamo tempi migliori. No. Sapete, c'era sempre quel politico di sinistra, soprattutto, che diceva, sì, non abbiamo un grande candidato, ma lo dobbiamo votare tappandoci il naso. Sono 50 anni che me sto tappandoci il naso. Mi è venuto un affettore allergico, c'è una fetta nel naso allucinante, cioè, basta. Il naso non me lo voglio più tappare. Cioè, se non c'è uno che io... Dei sì, ma io non ho fatto così, ma io non lo saprei. Se c'è qualcuno che io non voglio votare, non lo voto. Ma che cosa ti sta succedendo? Che nell'istante in cui ti dici io non lo voto, arriva un altro e dice, ah, ma se te non lo voti, quegli altri, ecco. Eh, non è vero. Perché qui non dice nessuno, ti perdono tutti. Allora, cerchiamo di trovare un sistema per uscire da questo loop. Cioè, la società e il mondo felice si deve fare, al di là della volontà delle persone che comandano, di non fartelo fare. Perché le persone che comandano non te lo vogliono far fare, questo mondo felice. Perché loro sono felici, tra virgolette, se rimangono al potere. Nell'istante in cui, purtroppo, tornano ad essere cittadini comuni, il nuovo problema egoico non viene risolto. Ma anche detto che il problema egoico non viene risolto neanche se sono al potere. Perché le persone che hanno una problematica sulle due città, vogliono fare prima il sindaco di una città, poi vogliono fare il primo ministro, poi vorranno fare il presidente della Repubblica, e poi il direttore della Galassia Centrale. E poi dopo, capitano, è ora, è ora, è ora, è ora, è ora, in quell'istante, quando capisci che c'è, non c'è altro sotto di te, ti spari. Perché? Perché mentre ti guardi tutte le mattine davanti allo specchio, riconosci inconsativamente dentro di te un cretino che sei sempre stato. E su questo non c'è un gran dubbio. Cioè, io conoscerò, conosco diversi docenti dell'Università di Pisa che hanno fatto una carriera illusidata, sono diventati, cioè, professori associati, poi candidati sul campo, ma che si imbottivano in psicofarmaci. Perché? Perché tutte le mattine quando ti guardi allo specchio, che per di essere un professore cattedratico dell'Università di Pisa, 668 anni di vita, sì, l'Università di Pisa, che sei il cretino che eri prima perché hai vinto un concorso truccato e quando vai in aula, gli studenti mi dicono, sa, professore, a lei mi chiediamo le cose, perché se le chiediamo al professore che sfugge quando finisce la lezione e non risponde alle domande, e gli scrivono queste mail tremende. Ora, questo signore è così. Sicuramente sono, hanno fatto carriera, sono diventati bravi, belli e buoni, ma tutto è un po' sì, riempiono le psicofarmaci perché hanno bisogno, in qualche modo, di sopportarsi. E di sopportare soprattutto il fatto che si sono delle bugie. cioè, però il tuo inconscio lo sa perfettamente che sei il cretino di prima, perché non c'è niente di male nel essere cretino. È quello che bisogna capire. Cioè, buon nome chi è? Perché pensare che uno che sia cretino è meglio o peggio di uno che sia intelligentissimo? Non è vero. Non è assolutamente vero. Non c'è niente di male. Anche il cretino che noi vediamo con l'idea di una negatività incredibile è una persona stranormale. Solo che la società ti pone davanti a livello della competitività. Ti dice, te devi diventare più bravo, più bello, più forte, più bello dell'altro. devi acquisire, devi comandare gli altri, gli altri devono subire. Questo te lo insegnano le scuole alimentari. Quando te ne giuro la scuola alimentare, c'è la lavagna, buoni e cattivi, è la fine. È la fine. Quella è la fine dell'inizio, veramente. O è l'inizio della fine. Allora, sapete che cosa si fa? Proviamo a costruire una civiltà migliore. E per costruire una civiltà migliore, ci accorgiamo subito che le cose che dobbiamo fare sono in realtà, non come ci immaginavamo, dobbiamo fare delle altre cose. È più semplice. Basta smettere di fare delle cose che già facciamo. Cioè, terza, non è che tu hai, che devi costruire dieci piattacenti. Ne devi nemmorire venti. È più facile. Allora, facciamo degli esempi. Così, perché io mi sono preso degli appunti, perché sono azionato, sono detto, se ero tipo di coglioni, cioè, ecco, avanti, non sono anche tu, cioè. Sì, che, lo so, tutto, me la prendiamo la vite, però. Però, però, va bene così. Cosa dobbiamo eliminare? Vediamo se si possono eliminare delle cose. Allora, io ho scoperto vedere delle cose che si possono eliminare, ma si può andare anche molto più lungo. La cosa più semplice è, va bene, l'ho già detto un paio di volte, l'identificazione della moneta. La moneta non si può eliminare, perché se si elimina la moneta qua, là, come si farà? Come si farà? Ma è futuro. Noi viviamo in un universo che è legato al presente. Come si fa ora? Si può eliminare la moneta o no? Qualcuno potrebbe dire no, 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 per carità, se si elimina la moneta, siamo dei casino. Analizziamo questa cosa. Magari c'è una mora di noi, sì, è vero, è il casino, allora lo facciamo. Però, analizziamo. Se si eliminasse la moneta avremmo dei vantaggi e avremmo anche forse qualche problema. Dunque, voi pensate ai tentativi che lo Stato ha fatto negli anni, più o meno coscienti, lo Stato italiano, di eliminare la mafia. La mafia ha 260 miliardi di euro di fatturato l'anno. Te li immagini, togli i soldi. Domani mattina la mafia non c'è più. Cioè, è una mappa di tagliamento e sconcettante. Poi ci arriviamo. Io faccio una fotografia del tagliato finale. Nel mezzo c'è la costruzione del tagliato. Non solo, non solo, devo dire questo, non solo, devo dire questo. Allora capisco come i tentativi di eliminare la mafia sono stati dei buoni tentativi da parte delle forze di donna, da parte dei servizi, da parte di chi ti pare, dei politici. E questo è un po' complicente, devo dire la verità, no? Però, sostanzialmente, il denaro è legato a un giro di cose che sono collegate al denaro che sono, sembrano estremamente molto lontani. La mafia è il denaro. La mafia non è altro che il denaro. La mafia è l'idea della illegalità nella illegalità. Cioè, noi non è che abbiamo uno Stato legale e abbiamo una mafia che è illegale. Abbiamo una mafia illegale e uno Stato un po' meno illegale. Però è tutto illegale. In uno Stato italiano non è una democrazia. In Italia. Non esiste. Questo non è uno Stato democratico. Io poi sono uno che nella democrazia ci pede anche poco. Cioè, come diceva qualche tempo fa nel Sacri d'America, il Sacri d'America che te pare uno Stato democratico? No. Ecco, beh, va bene, basta chiedere, facciamo un'indagine in giro e il 90% degli italiani direbbe no. Ecco. Ehm, come mai ci andiamo nelle basi militari americani in Italia? Ehm, capitania, vedi che si miglia signumus concreantum? Vedi che la democrazia è un'altra cosa. La democrazia, de vos, kratos, è il potere del popolo. Te pare che in Italia comandano gli italiani? No. Ecco, basta, mi fai tre per due, non fai 19. Ehm, dietro i soldi c'è un altro aspetto fondamentale, perché poi c'è il problema di eliminare questi soldi. Ma bene, questo è un problema. Non bisogna pensare che te parli così e dicesi, lecce, è troppo complicato, non si può fare, poi a sé. No. Il problema si fa in due modi diversi. La programmazione neurolinguistica, anche qui in parla, è molto chiara. Un mio amico che si chiamava Vercario Maratini, e che era un vecchissimo presidente del Centro Follotico Nazionale, appunto, da grandissimi anni, lui faceva il venditore di pubblicità. E lui mi diceva che già da allora, qui sono passati più di 40 anni, i problemi si analizzano in un modo preciso. Allora facciamo un esempio. Io faccio un riunione dei miei colleghi di lavoro, perché la nostra industria deve decidere un cambiamento di rotta, un miglioramento di prodotti di pazza, e conquistare il mercato. E allora prendo tutti i miei delegati, li unisco e gli dico, allora oggi dobbiamo decidere, la nostra fabbrica di scarpe, decidiamo se andare sulla luna oppure no. Si alzano tutti, io Marco, noi facciamo il caso come si fa ad andare sulla luna. No, perché l'immagine potrebbe essere utile andare sulla luna, vediamo ai lunatici le scarpe, che ne so. Why not? Andiamo sulla luna. E non si può andare sulla luna. Noi, come si fa ad andare sulla luna? Come si fa ad andare sulla luna? Lo decidiamo domani. Oggi decidiamo se si deve andare sulla luna. Ecco, in quel contesto, in questo istante, noi stiamo dicendo non ci preoccupiamo di come fare a fare questa cosa, perché poi si può fare, ma lo decidiamo domani. Oggi decidiamo se farlo, che è la cosa basiare, fondamentale, se no non ci si muove di qui. Vogliamo un mondo felice? Sì, faccio per dire, famolo. E come si fa? Te lo dico domani. Però oggi, a voto pieno, decidiamo, si va sulla luna. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che una volta che noi abbiamo eliminato la moneta, abbiamo eliminato un sacco di cose che sembravano lontane da questo problema, ma che sono estremamente legate. La mafia, la maledità, ma soprattutto, che ne so, le banche. Ma tu mori io, fabbrico banca, la gente. Cioè, perché le banche? Le assicurazioni. Le assicurazioni, noi dobbiamo essere assicurati, cioè, vi rendete conto, io faccio un incidente con l'automobile, mi vado contro un'altra automobile e l'assicurazione deve pagare gli anni. C'è qualcosa di strano, perché voi sapete perfettamente che le due assicurazioni si mettono d'accordo, soprattutto, per stabilire che c'è una comunione di colpe. perché, mi hanno spiegato, sarebbe molto più difficile, molto più costoso, molto più tremendo, dire, la colpa è tua, non hai rispettato lo stop, quindi, quel lato paga tutto, costa di più. Quindi, la giustizia, tra virgolette, costa molto di più dell'inciuccio. E questo, però, non è vero, è vero solo a tempi distretti, perché poi, a lungo termine, chi ci perde è la società, perché noi paghiamo delle assicurazioni che non hanno senso, cioè, delle bollette, delle assicurazioni, che chiamano premi, ma invece il premi è per loro, che non ha veramente senso. Come paghiamo delle tasse, in Italia, che in realtà, gli italiani è il paese più ricco del mondo. Certo, se noi prendiamo i soldi alla mafia, saremo il paese più ricco del mondo, ma i soldi alla mafia non li prendiamo e quindi noi finanziamo la mafia con i soldi dell'assicurazione. Sostanzialmente, funziona così. c'è qualcosa che non va con i soldi delle tasse, con i soldi della spazzatura, con i soldi del comune, con i soldi dell'educazione, con i soldi della sanità. pagheremmo meno. Negli istanti in cui non abbiamo più soldi, non paghiamo più niente. E allora succede che questa che loro chiamano risorsa, che è il denaro, si scopre che non è una risorsa, ma che è una problematica fondamentale che assume in contatto di qualcosa che divide la società in due. Chi ha soldi, chi non ce l'ha. Chi ha inventato i soldi, i ricchi. Perché i poveri. I soldi non li hanno inventati i poveri, li hanno inventati i ricchi. Non ti sospettisce questa cosa. Allora, capite bene che qui c'è qualcosa che non va, i soldi potrebbero non servire. noi li sostituiamo. Nell'istante in cui li eliminiamo con qualcos'altro, li eliminiamo totalmente, comprendiamo che la società ha fatto un passo avanti, si è simmetrizzata. Allora, la simmetria è una cosa fondamentale. Noi siamo qui a parlare dei massimi sistemi, in questo caso dell'economia, di un aspetto dell'economia. E ti dici, ma te dovresti essere economista, dovresti aver studiato Tizio, cari, semploni, dovresti aver compreso dalle tribù come facevano questi a mantenersi tecnicamente il tribù primordiale a oggi e allo società del futuro. Non si può fare prima lavorando sul secondo principio della termodinatica. Secondo principio della termodinatica è cosa che dice tutto ciò che aumenta la simmetria dell'universo va bene e tutto ciò che diminuisce la simmetria dell'universo va male. Perché la simmetria è legata all'aumento dell'etropia che è legata all'aumento della coscienza, della consapevolezza che è una misura della coscienza. Allora, se tutti hanno gli stessi soldi oppure cioè, di chi vuol dire che nessuno ha soldi di sensazione di più, la società è simmetrica. Nell'istante in cui tu fai qualcosa per togliere soldi a qualcuno, togli da qui e metti qua il piano di simmetria viene rotto. Quindi, tutte le volte che c'è un processo di disimetrizzazione in quello che fai, questa disimetrizzazione produce un contributo contra termodinamico all'universo. Correggio? Lo dico in un altro modo. L'universo va in una direzione che è l'aumento dell'etropia. Te, tutte le volte che fai qualcosa per diminuire l'etropia, è come se tentassi disperatamente di fermare l'universo. Te pare che Benlusconi con tutti i soldi che c'ha può bloccare l'universo? Ti pare che Trump possa bloccare l'universo? Non lo può fare. Sostanzialmente in questo istante, in questo momento, cerca di bloccare l'universo perché a lui conviene non tanto lavorare sui soldi ma lavorare sull'etropia, cioè sulla coscienza delle persone, cercando di non fargli acquisire la coscienza delle persone perché se le persone acquisiscono coscienza a lui faccia alcuni per fare il giro dell'universo 36 volte. di un'unità di tempo in Planck 10 alla meno 44 secondi cioè e allora il problema di Trump o dei ricchi industriali che sono scesi in politica non è quello di aumentare i soldi non è neanche tanto quello di avere potere è quello di mantenerlo e l'unico modo di mantenere il potere è quello di tenere l'etropia bassa del sistema cioè te non devi capire che ti sta a fregare non lo devi capire e allora siccome l'etropia non si può fermare devi cercare di rallentare il percorso il più possibile questo non puoi fare rallentare il percorso il più possibile questo è quello che fa chi comanda chi comanda rallenta il percorso e come lo rallenta con la divisione cioè con il contrario di quello che la coscienza sta cercando di capire comprende la divisione e poi comprende che la divisione non c'è cioè mi riunifico allora tutte le volte che la televisione dice che ci sono i buoni e i cattini chiunque si sia destra, sinistra cattolici, protestanti neri, bianchi alti o bassi democratici cristiani di destra o democratici cristiani di sinistra cioè gli indici che ci sono non fanno altro che creare una divisione fatti credere che esiste una divisione non esiste nessuna divisione non ci sono i buoni e i cattivi ci sono gli esseri umani in questo contesto ritornando a parlare degli alieni non ci sono gli alieni e gli esseri umani ci sono gli esseri umani e gli alieni che sono alieni ma non sono cattivi sono alieni e sono soprattutto ultimamente si capisce la parte speculare di te che mostra quella parte di te che te non hai compreso che non hai capito si possono eliminare i soldi certo che si possono eliminare ma si possono eliminare anche le frontiere che senso ha dire sono italiani cioè ha un senso dire sono affigato sono marocchino ah sì cioè vengo da lì vengo da lì sì c'è il senso c'è l'altro ma dire sono francese sai che è francese sono francese quanto sì lo devi dire noi abbiamo i formaggi voi avete ce le avete anche voi voi avete dubbi la formaggi noi abbiamo 25.000 tendete a rispondere così ma se avete una risposta eroica io sono più grande di te quindi sono uguali se anche lui si ha fatto come mangetto se anche lui no 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 vabbè perché così dai sì non ti preoccupare ma il francese non ha non ha l'idea dell'Europa è un'altra cosa noi vogliamo fare l'Europa Unita e poi ci ammazziamo nelle regioni condomini capisci che non è possibile noi abbiamo in debito un problema con i tedeschi sapete i tedeschi ci sono antipatici ma noi storicamente lo sappiamo perché dire che non è vero ci stanno sulle palle i tedeschi il tedesco ti posso dire le caratteristiche del tedesco il tedesco non muta per terra una carta neanche a morire però viene in Italia e ne muta due allora te capisci che il tedesco considera che l'italiano è una spazzatura allora te ve lo devi fare notare perché allora la sua grande grandeur di vivere il mondo da un punto di vista ecologico poi si vede che non è così che fa la mozzarella viola il tedesco no cosa che neanche a Napoli fanno la mozzarella anche perché sanno che le mozzarella di viola in Napoli non le comprerebbe invece i tedeschi non piova la mozzarella se la mangiano cioè il problema è che ognuno di noi ha delle pecche italiani chuneschi marocchini americani io sono stato in America tanti anni fa ho portato non conosco l'America non la conosco l'America però ci ho portato i ragazzi in gita in alcune università in Italia e quello che mi sono reso conto che l'80% degli americani è analfabeta ma non è analfabeta 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 e quando sono tornato in Italia e sono passati tanti anni ecco che vedo che gli italiani si stanno trasformando negli americani e noi siamo tutti contenti anche noi siamo diventando americani cioè analfabeti allora c'è qualcuno che vuole che gli sviletti analfabeti ed è la stessa persona che ha il suo il suo potere in mano e che vuole che noi in qualche modo insomma l'entropia non deve aumentare l'entropia non deve aumentare l'unico modo per non far aumentare l'entropia è aumentare la separazione quindi noi dobbiamo credere che ci sono i buoni cattini che ci sono le guerre giuste che ci sono le guerre sanche le guerre giuste sono quelle degli americani le guerre sanche sono quelle del Papa sì perché il Papa ha le guerre sanche cioè il fedele era il fedele quindi andava badocchiato e a specchio tutto quello che te fai che non è armonico ti si ributta contro di te cioè gli americani hanno a che fare con l'Isis l'isis l'hanno creato agli Stati Uniti d'America perché ci avevano Saddam Hussein per la toglier dalle palle e allora hanno creato l'isis perché non pensi di condirgli a Saddam Hussein una volta che Saddam Hussein se ne è andato è salito ai re dei cieli gli è rimasto proprio l'isis capito che si rivolta contro chi l'ha creata è una cosa normale cioè noi non ci possiamo lamentare perché gli stranieri vengono gli stranieri becca certi stranieri vengono in Italia e invadono in Italia per poi andare in Europa non ci possiamo lamentare perché questa è a specchio la reazione del fatto che noi abbiamo sfruttato quelle popolazioni fino a ieri e le stiamo risfruttando fino a oggi perché quando ci vengono a dire le nostre forze armate stanno in Iraq per difendere la democrazia un cazzo le nostre forze armate difendono i polsi petroliferi dell'era questa è la realtà delle cose allora non c'è problema non mi difende niente va benissimo sono contento però dimmi la verità dimmi le cose come stanno ci rinnoviamo sulla verità certo i polsi petroliferi vanno difesi sono da solo con te ma non mi dire che vai a difendere la democrazia come non mi dire che le americani vanno a difendere la democrazia in Italia o in Iraq perché quello che hanno fatto in Iraq l'hanno fatto in Italia nel 48 cioè sono fatti in Iraq hanno preso quei cattivi e l'hanno finito un pochino lì e poi hanno detto cazzo qui senza che i cattivi che conoscono il territorio non sappiamo come vuole dare ci hanno rimesso i cattivi cioè sono venuti in Italia ci hanno i nazisti i cattivi ci pensiamo noi hanno tolto i nazisti e l'altro si può dire ce l'hanno rimesso e l'hanno cambiato noi sono diventati la democrazia cristiana ma prima volta erano i nazisti è un po' come la democrazia cristiana poverina io sparo per un cannone su una carfaga perché tecnicamente sparo su una fantasma di se stessa non esiste più non c'è più non c'è più niente nell'istante in cui le due grosse forze politiche infermine e maschile stavo per dire cioè la destra e la sinistra chi sa chi sarai femminile eh ma gli bossi la destra e la sinistra scompaiono scompaiono la vera destra e la vera sinistra scompaiono perché rinunciano alla loro identità ma è una cazzata cioè è come un comunista ti vergogni di essere comunista finito fascista ti vergogni di essere fascista finito e c'è qualcun altro che ha preso il suo posto facendo finta di essere di centro a destra e di centro a sinistra è uguale non cambia nulla cioè però te non puoi perché faccio questo esempio? per far capire che nel cambiamento non cambia nulla se voi non ci state attenti nel mondo felice tutto questo non esiste perché? perché nel mondo felice noi siamo i gli elettori del nostro partito che è fatto di una persona sola beh te lui ognuno è il suo partito politico non c'è mai non ci sono le idee di destra e di sinistra ci sono le idee e questa è la cosa fondamentale non esiste ci sono delle cose che possiamo eliminare quindi una delle cose che va eliminata è la religione ma perché? io non è che voi fare il cattivo cioè sapete una volta c'era la depurazione i poteri politici che eliminavano cioè quelli pro-religioni quelli contro non è che va eliminata ma è da sola non c'è nessuna guerra da fare con le armi ecco voglio dire c'è da fare la guerra con la coscienza ma cosa serve la religione? è una domanda no? cioè noi possiamo farci queste domande e chiederci sostanzialmente sostanzialmente chiederci che differenza c'è tra il bisogno e la necessità tra il bisogno e la necessità perché sembra la stessa cosa ma non lo so allora se noi abbiamo bisogno di una religione è un conto se noi abbiamo una necessità di una religione ma io ho ho la necessità di mangiare perché se no ora come ora non sono mai capace di andare senza mangiare quindi muoio quindi ho necessità ma ho bisogno di mangiare e possiamo scoprire che non è vero non ce l'ho questo bisogno perché se io avessi consapevolezza e coscienza di me fino all'estremo limite io potrei non mangiare che di me lo stesso perché io sono il creatore dell'universo esistono delle persone che io non so come fanno avranno sicuramente un'ampia consapevolezza di sé che non mangiano mai c'è un santone tibetano che l'hanno preso che l'hanno studiato per sei mesi all'ospedale di Bangalore non ha mai mangiato sta venendo un po' magretto non è come Renzi è un po' magretto è un po' magretto però tranquillamente allora che ti rendi conto che c'è qualcosa che non va che ti stanno raccontando nelle parole io ho scritto un articolo tanto tempo fa che si chiama video 3 complicatissimo in questo articolo però pubblico un certo numero di fotografie di tacche di risonanze magnetiche nucleari di persone senza cervello che dicono abbastanza bene una signora francese viene intervistata da una televisione francese dice un giorno con un po' di mal di testa sono andato a fare una tacca e ho scoperto che il mio cervello è vuoto signora come fa a camminare a parlare vuoto 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 che è il mio fisiologo lì nella tradizione televisiva che era vero del calcio ma come è possibile non è una scienza ancora qualche problema da risolvere allora c'è qualcosa che non va cioè non ci fidiamo io voglio dire va bene Piero Angela è anche simpatico però dà per scontato un'idea della realtà che è una realtà meccanicistica 2 più 2 fa 4 perché ci sono le formule soprattutto perché l'hanno detto gli scienziati se gli scienziati noi lo dicevano anche se lo diceva Dio Piero Angela dice non ci credo perché io sono ateo ma se l'ha detto lo scienziato ci credo praticamente ha cambiato religione Piero Angela dalla religione cattolica che dalla fisica non è cambiato tanto perché? perché sei un cattolico hai studiato i testi e sai esattamente che cosa è successo conosci la realtà del fatto che la Bibbia non esiste sai che l'hanno scritta a Babilonia prima di Babilonia erano scritte nella Valle del Lindo e prima della Valle del Lindo ne abbiamo perso le tracce perché l'hanno scritta prima dell'Universale no lui non lo sa sai che cos'è la fisica quantistica sai che cosa sono i fotoni sai che cos'è l'antimateria no non lo sa e allora perché preferisci di votare dalla parte e non votare dall'altra cioè è sempre un cugnone che ha deciso di votare per una cosa ma non ha consapevolezza di sé te per decidere noi per decidere dobbiamo capire chi siamo così facciamo quella cosa che non abbiamo mai fatto finora perché qualcuno non ha mai fatto abbiamo sempre delegato gli altri a comandare per loro io non sono capace di fare il politico facci te che sei uno che parla bene no un'importanza parla bene facci te difendi i tuoi diritti difendi le tue idee e poi succedono delle cose tremende succedono te affini a qualcun altro deve di qualcun altro a comandare per te succede nel campo della politica succede nel campo della religione succede nel campo della filosofia succede nel campo della scuola nel campo della scuola succedono dei troviani tremende cioè io ho un'esperienza te vai a scuola la scuola è fatta di genitori di scolari e di insegnanti perché i genitori deve rompere i coglioni all'insegnante fai che l'insegnante insegni come cazzo vuole lui te fai il genitore non rompere le palle invece no i genitori vanno lì e vogliono far vedere che sono più grandi degli insegnanti soprattutto i genitori che hanno fatto l'università che sono grandi che si sentono professori universitari poi vanno a insegnare che sono professori universitari che sono insegnanti nelle scuole medie ma l'insegnante sicuramente può essere un miardo di molte più bravo di te perché hai da l'esperienza quindi lascialo far a lui non ti mettere tra le palle che non lo sai fare a quel lavoro lì noi non lo sappiamo fare quindi c'è un problema di competenze che si intrecciano e nessuno nella realtà dei fatti che si vuole prendere la responsabilità perchè poi allora se fai te fai te no che vuole ma c'è io tante volte forno in pensione quindi lo faccio tante volte mi dicono no ma queste cose non si fanno così no fai te allora scopri che quelli di ghiaccio bollente non sappiamo cosa fai no ma non scherzavo come scherzavo non c'è che problema è così semplice così mi dimostri subito che un conto è parlare così per bellezza è un conto di avere le basi delle informazioni delle idee in base fondamentali la religione non serve a niente la religione serve solo a Dio ma Dio siamo noi quindi non abbiamo bisogno di Dio la religione allora sostanzialmente a chi serve? al mediatore il prete il prete è quello che tutto una serie di problemi psicologici politici ha fatto il prete ora c'è chi fa il militare c'è chi fa il prete sostanzialmente ti hai bisogno di qualcosa che ti dia delle regole perché? le regole servono a sgravarti dalle responsabilità delle tue azioni no? sei il prete e il prete si deve comportare in un certo modo perché l'ha detto Gesù sei un militare il militare si deve comportare in un certo modo perché l'ha detto Dio no nel mondo felice sei il creatore dell'universo tuo e ti fai quello che ti pare non ci sono le regole da rispettare perché non esistono regole dell'universo quando noi facevamo le pelosi profonde si vedeva una cosa meravigliosa la parte animica faceva delle cose incredibili è come una bambina piccola ti ho imparato a cambiare il canale dell'universo guarda che lo cambia e la televisione cambia la canale da solo e l'universo è contenta l'ho imparato e cioè ti dai un riconto oppure quando mi dicevi devi mandare via l'alieno cattivo ero cattivo dalle volette come si fa eh guarda ora ti spiego come si fa io ti dicevo nelle pronosti profonde la parte animica no 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 non me lo spiegate lo so già come lo sai già sì ma non mi importa sapevo basta che lo voglio e lo faccio ti risponderà così questo è l'idea la porta iniziale per entrare in un mondo felice che puoi fare quello che vuoi perché non lo fai perché credi di non poterlo fare questa è la fregatura fondamentale questa è la fregatura fondamentale è evidente che in un mondo in cui non c'è più la moneta non c'è più una frontiera non c'è più la divisione tra un francese e un italiano non c'è più un cattolico un protestante c'è ognuno che pensa con la sua consapevolezza che non ha bisogno di appellarsi a Dio io gli abbia successo questo la colpa è del diavolo come si dice il colpa è della colpa il merito è di Dio e te un continua mazza cioè sei te che hai fatto le cose non è il diavolo e il Dio o meglio il diavolo e il Dio che sono dentro di te che sono le due immagini di te stesso sei te che fai le cose però quando hai fatto una stranzata è conveniente dire che hai fatto il diavolo io non c'entro niente io avevo perso questa sicurezza di me si l'ho ammazzato ma non me lo ricordo chissà dentro di me è entrato satana e mi ha fatto ammazzare il tizio lì così dice quello che uccide con una cortellata dell'isis un tizio e dice no ma io non c'entro niente questo è il braccio d'Allah è vedete il braccio d'Allah se Allah mi voleva fermarmi mi fermava mi ha fermato no e io ho fatto il volere l'ambia che cazzo mi fai anzi vanno anche in paradiso il paradiso di Allah dove Allah è contento perché ha usato il mio braccio e certo è andata bene che l'ambraccio e tu dici anche cosa facciamo a vedere l'antica è sempre di Allah è quella cosa qui magari se mi cambia non mai di Allah quindi la politica la politica a questo punto non serve più anche perché la politica vedete è vero che cioè la moneta tra che parte sostanzialmente scopriamo con la mafia con il pensiero mafioso di quello che ti vuole fregare quindi non è che è il mafioso solamente il mafioso è il mafioso con lui che pensa di poterti fregare perché ha una è il mafioso che è dentro di noi noi siamo anche un po' mafiosi sostanzialmente così come il razzismo a che fare con l'abattimento delle frontiere la religione a che fare con l'abattimento dell'idea del peccato l'idea del peccato è legata al fatto che ti hai fatto qualche cosa che è uscito dalle regole alle regole che li ha fatte ne ha fatte qualcuno che ha detto queste sono le regole che devi rispettare o perché non davano bene altre regole e allora scopri che quelle regole servono per quello che li ha fatte non per te non per il popolo non per la gente comune e così la politica la politica è legata al problema del comandamento cioè io ti comando attraverso una di tantissime forme e sfumature di dittatura la democrazia è qualche cosa che noi abbiamo visto non esiste avete presente una giornata in Parlamento una giornata in Parlamento è fatta di persone che ogni tanto votano segretamente perché? perché si vota segretamente? cioè siamo in democrazia io dico quello che penso perché io non devo dire quello che penso? no ma perché sai perché così si evita si evita degli stronzati cioè devi avere il coraggio delle tue idee il voto segreto non ha senso perché qualsiasi cosa sia segreto è contraterno dinamico guardate che l'entropia è fondamentale in tutti i discorsi che facciamo cioè tutto ciò che disarmonizza è antientropico e quindi non funziona se io mi tengo un segreto è come se io chiudessi dentro di me la mia verità e non te la faccio sapere a te quindi erigo è una variera tra il mio interno e il mio esterno ho separato l'ambiente sto facendo un processo di risimetrizzazione non funziona non funzionerà mai così quindi non ci fidiamo delle forze politiche nuove che invece di chiamarsi partiti si chiamano movimenti perché è uguale non cambia nulla e questi gli ultimi eventi della politica italiana lo dimostrano chiaramente il problema della una delle cose che si può eliminare per esempio in questa società è la pubblicità ma che cosa serve la pubblicità? cioè è un bisogno noi abbiamo bisogno della pubblicità no è una necessità abbiamo bisogno di poco vera della pubblicità no è un bisogno di qualcun altro bisogno di quello che vuole vendere il proprio prodotto ma certo non c'è un dubbio però in questo contesto c'è un aspetto che si chiama concorrenze libera concorrenze mercato ho fatto così cioè io faccio questo formaggino e fai quest'altro formaggino il mio formaggino io lo voglio vendere di più del tuo a me non ne frega niente che il mio formaggino sia cancerogeno io lo voglio vendere più del tuo e ti dico che il mio formaggino è più buono anzi ti fa ricrescere quello che ti è cascata il mio formaggino ma non lo so se lo fa ma il formaggino lo fai o per quel formaggino lì allora qui ci sono due o tre aspetti della questione sociale che vanno con il presidente non c'è nessun bisogno della libera concorrenza se non ci sono più i soldi e se c'è uno solo che fa i formaggini e se ne fai i formaggini meglio di tutti ed è lo Stato cioè noi non lo Stato che c'è ora lo Stato fatto da noi non lo Stato di persone che abbiamo delegato a fare i formaggini noi facciamo i formaggini punto numero uno punto numero due ma allora giustamente ti sai che c'è ragione ma allora perché mangio quel formaggino lì la mamma quanti cereali mangia il tuo figliolo il mio figliolo mangia un merendine con tre cereali il mio figliolo mangia con cinque cereali infatti è più ratifico ti rendi conto che c'è qualche cosa che non funziona te sei lo stesso che il mio figlio di non avere acquisito la consapevolezza che ti stanno appiando nel culo e siccome tu hai una coscienza e lo sai che ti pigliano per il culo lo sai in quell'istante che mangi i cinque cereali hai accettato di essere di far parte del bel gamba del pigliamento per il culo hai accettato di essere preso per il culo lo sai che ti pigli è un pericolo e continui perché così ti fa meno fatica allora noi siamo sostanzialmente un po' partecipi del fatto del perché questo universo migliore fa fatica venire fuori perché sostanzialmente in qualche modo siamo consapevoli del fatto che i nostri politici i nostri guandanti i nostri preti i nostri elemici i nostri evocati e i nostri carabinieri tra virgolette poi dico perché sono lo specchio di noi sono lo specchio di noi lo specchio di noi e in questo specchio allora non ci possiamo lamentare del nostro politico di turno che un questo sia che ha fatto una legge così l'avevo votato l'avevo votato perché lui aveva detto che mi avrebbe mandato in pensione in un certo modo e invece non ha appena è andato al governo ha cambiato le leggi sulle pensioni e io ora prendo 300 euro di me allora l'hai votato per te non per lui ecco e qui nasce una cosa fondamentale che io ho sempre detto è che la gente non ci crede ognuno fa tutto in questo universo non su questo pianeta in questo universo solo per sé nessuno fa niente per un altro però esiste una differenza uno te sei un egoico che crede di fare tutto per gli altri invece lo fai per te un cattolico un altro lo fa per sé sapendo che lo fa per sé acquisito consapevolezza di sé sostanzialmente e sa che questa è l'unica possibilità che ha di aiutare l'universo perché lui è l'universo ma solo se se stesso va avanti e andrà avanti l'universo può essere una persona con una certa consapevolezza con una certa coscienza che sostanzialmente passa per quello cattivo lui pensa solo se stesso non è vero tutti pensiamo a noi stessi c'è però il consapevole che lo sa perché sa che facendo questo porta avanti l'universo e c'è quello che fa finta di farlo per un altro ma che consapevolmente non sa che fa tutto per sé anche quando attraverso la strada con la vecchietta tutte le mattine attraverso la vecchietta aiuta la vecchietta a attraversare la strada non sta aiutando nessuno non sta aiutando se stessi dice vedi ho incattato la vecchietta senza la strada vado in paradiso lo fa per sé se ne fotte la vecchietta dicendo che la vecchietta va sotto la macchina meno male non c'è più bisogno di altro pagare la vecchietta cioè io c'avevo un parente così cattolico pensiamoci un attimo a questa cosa qui perché magari è banale non ci abbiamo mai pensato ma se ci pensiamo 5 secondi può essere vero che cosa possiamo eliminare nella nostra strada i trasporti privati o perché i trasporti tutti non sono pubblici perché io devo prendere vado a Roma i tassisti mi ammazzeranno vado a Roma e devo prendere un taxi io vorrei andare a Roma e prendere un servizio pubblico che mi porta a dentare poi quando non ci sono i dati ci sono i sottotaxi quindi un po' più così perché poi sono i sottosottosotto cioè se prendiamo un po' più di loro in questa società i servizi i servizi i servizi del mondo felice sono tutti gratis per tutti te sali su un'autolus e non paghi niente te vai all'ospedale e non paghi niente te vai a scuola e non paghi niente ma allora che cosa servono le scuole private? ah niente le scuole private ci sono due tipi di scuole private le scuole private di te basta che paghi che ti danno la laurea e quindi poi ci andiamo magari persone estremamente violate al governo che hanno fatto le scuole private perché è così non solo in Italia ma anche all'estero che quando scrivono te dici poi dici poi succedono gli scandali il tale ministro la sua tesi di laurea è finita quante volte l'abbiamo sentito dire in Italia il ministro dell'Italia ha copiato su mille pagine da un altro e non ha scritto che l'aveva copiata da un altro Tizio ha fatto Tizia ha fatto una una tesi di laurea finta in farmacia in medicina ma in realtà la tesi non l'ha mai neanche discusa caglia perché sono solente femmine queste cose che strano invece di dare l'esame di statua a Roma le ha tratte a dare l'esame di statua a carica perché se no Roma è col cazzo che passava te ti rendico la ministra no io ho detto che c'avevo una laurea ma in realtà mi sono sconfusa e non era vero ma te le indico questa gente qui non sa neanche parlare in italiano io non sono un grande io poverino ho fatto i geometri quindi ai miei tempi non sapevo neanche chi era Platone però dopo mi sono un po' documentato qualcun altro invece continua a documentarsi lì è il problema fondamentale quindi la scuola serve ma adesso la scuola fatta in un altro modo non è la scuola di oggi dove ci sono i ricchi che vanno e prendono la laurea semplicemente perché sono ricchi oppure i ricchi possono studiare e avere delle chance in più perché sono ricchi e i poveri no cioè perché che differenza cioè l'intelligenza e il vero non sono collegati tra di loro una persona che ha acquisito la capacità dentro di sé neuronale di fare delle cose sovente non è mai stato avete mai visto uno scienziato ricco cioè quando i doberman si fanno a copiare tra di loro poi gli scoppia la testa gli viene mal di testa quando i ricchi si sposano tra di loro non è che sono ricchi poverini ma il DNA si approccia non c'è niente da fare invece abbiamo un sacco di studenti che sono caratterizzati dal fatto che prendono dei voti bassi sono quelli intelligenti del futuro perché ti prende i voti alti prende i voti alti perché il professore che sicuramente fa parte di un establishment vede nello studente un'immagine di sé coglione come te coglione come me ti do 30 quell'altro invece che sarebbe un rivoluzionario che avrebbe delle idee nuove non lui va castigato ti dicono così e allora te ti trovi infatti un libro non a caso in il codice dell'anima aderfi un editore nel primo capitolo mostra un sacco di esempi di persone che sono diventate famosissime nei loro campi perché a scuola andavano malissimo è chiaro che a scuola va malissimo se questa è la scuola di ora ma che a scuola deve cambiare se la scuola non devi più insegnare che ci sono i buoni e cattivi la cefero speto che c'è il crucifisso dietro la lavagna o la bandiera di qualche stato dietro la lavagna non c'è niente dietro la cattedra non c'è niente e non ci deve essere neanche la cattedra io vado a lezione andavo a lezione e mi sedevo da questa parte di qua sulla cattedra e il primo giorno mi sedevo sulla cattedra perché gli studenti quando ti guardano fai questa cosa qui allargano la lunghese della pupilla così e non capiscono cosa stai facendo perché ti stai facendo un gesto indegno ti stai siedendo sulla cattedra la quale cattedra ha due significati uno ti separa da te separa non separa separa da te io sono il professore e te sei un cittadino non so qualsiasi d'altra parte se te ti siedi e questo è che è lo strumento del potere è il potere la cattedra allora te ti siedi sulla cattedra dall'altra parte hai tempestato il significato del potere e hai detto io sono lì sono come te te non lo sai ancora ma dopo 5 minuti che avranno te ne rendi conto ecco questo è un linguaggio è un modus a geni che fa capire il linguaggio non lo capisce gli ci vogliono 4-5 ore per capire di lezione perché in prima ora di lezione ti guarda e poi dici questo è strano questo non si comporta come gli altri questo dice le parolacce a lezione e dopo no perché devo confessare dopo eh c'è sempre qualche studente cattolico davanti della unione cattolica dei cattolici piccoli cattolici no? no ma io non c'erò che i cattolici c'è perché c'erò anche quelli del Isis che per me sono guà cioè qualsiasi dio che te c'hai vai tranquillo capito? non è un problema di separazione anzi è un problema di unificazione in questo caso secondo me è la stabilità però potrebbe essere lo stesso devi cambiare la scuola la scuola deve essere intropositiva la scuola è la scuola di pratoni tutti insieme in una piazza a parlare del più e del meno certo io faccio la chimica organica ti scrivo sulla lavagna le cose di chimica organica ma in quelle cose che ti scrivo sulla chimica organica ti dico vedi questo è un colorante ce l'hai addosso è il tuo vestito che hai costruito così e lo sai quanti sono ti costa costa poco il colorante è quello che costa di più e la facoltà con il tizio per sé e poi ci ha metto un preghiolo bel e la metto un preghiolo bel perché ha fatto un preghiolo bel perché ha fatto una galzata come la gente crede perché la gente crede nelle cose sulla scuola che non sono vere la fuga dei cervelli mi viene in mente fatelo darvi perché questi cervelli che sono in fluo e lui che sono in vicenda però c'è un gruppo di persone di ragazzioni che vogliono fare carriera nell'università uno di questi è figlio del professore cosa fa il professore? cerca di trovare il modo di valdino un concorso di professore associato di ricercatori che sanno già tutti vincerà quello lì ma siccome quello lì di solito è il figlio del professore sempre più coglione di tutti io lo posso assicurare statisticamente ma veramente ma no perché poveraggio immaginate un professore dell'università che ti rompe i coglioni tutta la vita perché vuole che tu facci il professore dell'università invece tu vuoi suonare il pianoforte e tu sei costretto a fare il professore dell'università farai il professore dell'università tutta la vita rimpiangendo che avresti voluto suonare il pianoforte cioè se sei un professore dell'università nel cazzo saresti fatto magari un modesto pianista però come un professore universitario del cazzo comunque allora te deve vincere questo tizio se questo tizio deve vincere gli altri non devono concorrere perché gli altri sono più bravi allora il professore universitario trova il modo di trovarti delle borse di studio che mandano gli altri all'estero così si tolgono di culo e te vinci e quegli altri sono cervelli in fuga ora capisci che la televisione non te lo dice come stanno le cose realmente però purtroppo sono così la proprietà la proprietà privata lo provo prima la proprietà privata la proprietà è una cosa che non esiste io ho questo io ho questo che ce ne hai due io non ce l'ho nessuno allora questa cosa è una cosa che disimmetrizza l'universo la proprietà non ha senso nessuno deve avere niente ma per quale motivo perché tutti hanno tutto cioè quando io esco per la strada io muto la carta per terra perché come la buttassi a casa mia la carta per terra mi manda quella che è è un aspetto dell'educazione civica l'educazione civica è fondamentale allora se io considero che quella strada quel posto quell'ambiente è casa mia non ce l'ha muto per terra perché a me piace di che è la strada bella perché è come se fosse il salotto di casa mia e sono in armonia con il diverso perché non lo distruvo non lo muto non ci faccio niente in quel contesto l'ospedale di fronte a casa mia è mio questo è il motivo fondamentale per cui quando vengo ricoverato in ospedale non devo vita pagare perché quando vado in salotto e in bagno parlo quello è l'ospedale mio è mio perché è di tutti non è mio perché è mio e qui si comprende una cosa fondamentale che nel via di cortezze nella visione videonica dell'universo è chiarissima la dualità è finta esiste solo perché tu credi che esista esista cioè il buono e il cardigolo il bene e il male solo perché tu credi che esista e quindi inconsapevolmente te lo credi e nel creato cosa fai? vedi la realtà inconsapevolmente sei creato duale nell'istante in cui ti dico mio tuo suo nostro nostro loro comprendi una cosa fondamentale che non avere niente vuol dire avere tutto e ti ho di più non avere niente non vuol dire solo avere tutto ma vuol dire secondo il mio onestissimo punto di vista essere tutto perché il problema che è il fronte da fuori essere o avere tu io non ho io non ho le cognizioni della chimica organica che insegno tutti i giorni fino al primo ottobre poi vanno in pensione io non ho le cognizioni della chimica organica io sono la chimica organica e te lo dici faccio c'è la lega di animo no non è anche la lega di animo è la realtà di fatti se te non sei quello che fai non funziona qualsiasi cosa tu fai anche gli spaghetti alla brutta vesca ci metti te tu te stesso fai un quadro sei te fai un'invenzione suoni in pianoforte fai una una tua composizione sei te quella parte lì sei te te non hai sei capisci che questo è il mondo felice il mondo i contotti sostanzialmente poi possono fare tutto che mi pare perché nessuno gli dice niente vedete ci sono delle cose che noi possiamo eliminare però le dobbiamo eliminare con una certa consapevolezza di noi per esempio io ho sempre trovato molto demagogico perché è una demagogia che sarà politica sono io non so quanti di voi fumano ma la cosa strana è il fatto che lo Stato ti vende la droga lo Stato ti vende le sigarette e io mi dico non fumare fuma o fumare fuma ovviamente è un problema di una cosa che vuole se te sai che il fumatico avrai delle problematiche perché il tuo contenitore si ammalerà e il cattolico direbbe devi avere cura del tuo contenitore il tabernacolo della Santissima Trinità che domani vedremo a tutta un'altra cosa questa Santissima Trinità però devi avere cura perché è quello che ti permette di vivere qui e di fare l'esperienza senza il tabernacolo della Santissima Trinità senza il corpo non vai da nessuna parte non fai niente non fai esperienze della Santissima Trinità però non puoi dire guarda che io ti vendo un veneno sono cazzi tuoi non te lo vendi il veneno poi però vi lavo la coscienza scrivendo sul pacchetto di sigarette che fa male non solo fa male ma che a cui chiedono respiro allora scusa non si fa bene ma perché non lo vendi eh non il genere sapete ma vendi e metti cinque anni dei soldi allora sei uno che spaccia nella droga cioè è la stessa cosa te vendi sigarette e la uva beh sigarette fanno meno male della cocaina parliamone 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 sicuramente però nel mondo felice è una cosa fondamentale che poi domani devo riprendere questo discorso nel mondo felice te non puoi acquisendo la consapevolezza di te tentare di fare del male al tuo contenitore perché questa consapevolezza se no te non ce l'hai il tuo contenitore ti serve e ti serve soprattutto il tuo cervello per capire esattamente il mondo che ti circonda e comprendere che non è vero che ti fa schifo il mondo che ti circonda ma vuol dire semplicemente che te dietro di te ti stai facendo schifo nessun problema cambiamo capisci che cosa c'è che non funziona rimettiamo tutto in ordine e poi direi che non avrai più bisogno di stordirti in qualsiasi modo possibile per aprire il quattordicesimo chakra e vedere di Gesù perché no ho finito l'effetto del psicofarmaco e torni a vedere la merda che avevi davanti il giorno prima se invece fai il quattro test di amico flash acquisisci la consapevolezza di te costa zero lire non ti fa male e ti dura per tutta la vita ma questo lo vediamo domani ovviamente quindi ci sono delle cose che devono essere chiarite c'è una cosa che va indicata in questa società è la massoneria la massoneria non è solo più una massoneria la massoneria è un modo di pensare è un po' come la matta è un modo di pensare la massoneria è legata all'idea del gruppo chiuso eletto l'agnosi è solo per corti io parlo con l'ariello che non sei legno sostanzialmente se uno va ad analizzare gli aspetti fondamentali della struttura della massoneria scopre che la massoneria si rifà molto all'aspetto dell'antica alchimia dove si voleva trasformare l'uomo mortale in uomo immortale si comprende come la logica della massoneria è la logica di etica l'agnosi è solo per pochi gli altri cazzi no no loro si dicono ma no non è vero non è vero noi facciamo della beneficenza allora la beneficenza si fa in un altro modo la beneficenza si fa in un altro modo innanzitutto la beneficenza non ha ragione di essere fatta perché che non puoi aiutare nessuno a uscire dal problema perché ognuno ha scelto di fare quel percorso lì te non deve aiutare nessuno la beneficenza di quel tipo lì ha lo scopo di dire di tacitare il volgo e di dire ma io ho dato centomila dollari a quell'associazione e quindi sono vuoto no ti hai dato centomila dollari a quell'associazione magari per non pagare le tasse così ne sgradila le tasse perché ognuno fa qualcosa per se stesso o per l'altro non fa niente con consapevolezza e poi il concetto di chiuso di nascosto è legato a un concetto antitermodinamico contratermodinamico te sei un eletto tra gli eletti ci sono i livelli io sono più il ganzo che sei meno ganzo io sono 32 che sei 33 che sono 55 e la dici di più greco no 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 te sei un coglione qualsiasi che ti sei autoeletto perché te come fai? tra una solida lascia per altre elezioni io sono un ganzo sì sì sono un ganzo faccio un gruppo di ganzi un gruppo di ganzi che che scelgo io chiaramente siccome lo scelchino è un gruppo di ganzi io sono il capo di ganzi quindi ganzi di ganzi questo l'ho letto io no allora qualcun altro dice no c'è stato Baphomet che mi ha comparso di notte e mi ha detto sei te il ganzo sì questo succedeva a casa da Mussegine che aveva detto che mi era comparso là di notte certo ma non solo anche nella storia ci sono tanti condottieri che hanno detto che mi era apparso Gesù che gli aveva detto si ammazzano tutti che sono con te no è troppo comodo divertente questa cosa qui non si fa così nel mondo felice queste cose non ci sono non ci saranno più non avremo più la P2 non avremo più la strage di Stato non avremo più il Cermis non avremo più Piazza Fontana non avremo più sapete no mio nonno era napoletano e non so mio nonno era napoletano ed era perché aveva fatto la guerra era un po' di destra quindi quando vedeva il telegiornale vedeva le cose in un mondo duale vedeva che c'erano questi attentati e in periodo in Italia c'era il casino e quando gli attentati erano fatti da le Brigate Rosse ce l'aveva quelle Brigate Rosse le Brigate Rosse qua là sulle giure con visti mangia di bambini quando l'attentato era stato fatto da qualcuno di destra lui parlava con il camion diceva ma è che vuole essere una bombetta di cartone questo è la dualità questo è il modo di vedere le cose te capisci capisci a me cioè questo è io me lo ricorderò per tutta la vita perché uno si giustificava e lo so non è non ci sono bombetti di cartone ci sono dei casi veramente complicati una delle cose che si può eliminare sono le carceri le carceri servono a cosa? se noi ci pensiamo bene servono a tamponare una situazione di malessere nella nostra società la carcere il carcere è almeno in Italia ma credo anche nelle altre relazioni il simbolo sostanzialmente di uno stato di malessere della propria società per cui te tieni uno chiuso lì perché se lo tieni in giro ti fa casino allora sì va bene ok però già che lo tieni chiuso non sarebbe meglio insegnarmi a fare qualcosa cioè utilizzare il suo tempo perché facessi qualcosa allora ci sono delle peri che non hanno veramente senso la quella di morte non ha nessun senso cosa fai? gli togli la possibilità di finire la sua esperienza no dai un piccone e fargli sparare una galleria che a me ci serve e lui nel lavoro che fa che andiamo è probabile che acquisisca la consapevolezza e la motivazione del trovare nel lavoro la sua propria realizzazione ma dico è un esempio banale quindi il carcere come società di reclusione non ha nessun significato te devi prendere questi soggetti o è insegnargli insegnargli tra virgolette fargli vedere fargli ricordare che anche loro sono i creatori dell'universo è chiaro che sei nato nel sotto proletariato di qualche città del sud hai avuto dei problemi economici in casa tua ci sono 12 figli non c'hai da mangiare ma il tuo mamma c'ha la Ferrari fuori perché io quando ho fatto il militare a Napoli ho visto nel Nicolo Spock a Napoli che c'era a un certo punto facevo l'unitare col piantone militare col piantone così facevo questa bainetta qua che non avrebbe tagliato neanche la mozzanella però facevo con gambe per uscire perché era adesso così c'erano le elezioni dove facevo la guardia al seggio a un certo punto si apre una strana cinesca e l'unica stanza che c'era c'erano 12 persone che dormivano in un unico letto uno o Vashkir esce e prende una macchina rossa fiammante che arriva fuori e se ne va ora questi non c'erano da mangiare e non c'erano l'automobile che era pulita che da parentesi era la rappresentazione sostanziale di un simbolo fallico c'è qualcosa che non vale per la società ma quella società lì è così per quale motivo? perché noi non abbiamo fatto niente per tirare i fori lì noi abbiamo fatto tutto per non fare così come facciamo così nel sud facciamo così anche con i paesi nell'Africa cioè insegna in qualche modo al poveraccio all'africano a lavorare la terra a costruire le risorse con tutte le difficoltà che ci saranno non di vendere il latte il polvere che poi quando è finito te sei costretto a comprarlo come loro sono costretti a comprarlo e quindi mi hai creato una dipendenza perché allora se vuoi creare una dipendenza capisci che te ne volevi delle grandi onlus aiutare tizio e caio sentroni ma vorrei formare un mercato perché ti sapete servito a te per guadagnare dei soldi non ha senso quindi voi comprendete perfettamente come queste cose sono sotto gli occhi di tutti sono sotto gli occhi di tutti e però la gente capisca insomma io ho preso dei banalissimi appunti un'altra delle cose che ormai mi sta sulle palle è il mondo dello sport il mondo dello sport si fanno le gare c'è uno che arriva prima e uno che arriva dopo solo che quello che arriva prima guarda gli altri e poi intorno un sacco di scelte vuoi vedere che se non abbiamo i soldi le gare non ci sono più vuoi vedere che quando uno va a correre va a correre perché gli alba gli alba corre a giocare a pallone perché gli alba gioca a pallone è inutile e facendo prendolare da Spezia andavo a Pisa delle mattine cioè tutte le mattine soprattutto le due di mattina i miei colleghi con tutto sport sotto il braccio che tra Spezia e Pisa un'ora avrebbero dovuto parlare della partita della Juve e che dovevi sapere tutto sulla partita della Juve perché se no vuol dire non è il mondo non avrei visto la partita della Juve io già da quel tempo avrei buttato la televisiva perché noi abbiamo vinto voi avete perso come noi abbiamo vinto voi avete perso te sei stata a casa quella è un'ora che cazzo c'è un'ora cioè capisci che le cose non stanno così allora perché funziona questa cosa questa cosa funziona perché ti hai ideologicamente in uno scritto di squadra io sono della Juve quindi se avvito lui ho vinto anch'io non è così io sono di quel partito se avvito il partito ho vinto anch'io non è così nel mondo felice tu sei il partito di te stesso e qualsiasi cosa succede se ti hai vinto hai vinto te non hai vinto un altro ma nel mondo felice si scopre che non vince nessuno non vince nessuno perché non perde nessuno perché tutti i greci concorrono a vivere in un mondo che è sostanzialmente contestualmente un mondo migliore un mondo che ha deve essere fatto con delle caratteristiche precise comprendete che per un attimo quello che vi sto dicendo ha una caratteristica fondamentale si può fare tutto quello che abbiamo detto si può fare la domanda mattina non è che c'è da smontare chissà da riformare il coci civile molto chiaro il coci civile c'è chi si riferisce sarà quello lì non c'è bisogno di fare una riforma sapete quando si fanno le riforme le riforme si fanno quando ti per pure quello si era dal governo non ci vuole più scendere allora ti cambi per fare in modo di rimanerci si fanno così le riforme almeno in Italia si fanno così l'Italia ha una caratteristica politica fondamentale è l'unico paese del mondo che non ha mai fatto una rivoluzione quanta puntagna sai che la rivoluzione l'ha fatta la Francia l'ha fatta la Spagna l'ha fatta l'Inghilterra l'ha fatta la Russia l'ha fatta l'Egitto l'hanno fatto i stati uniti d'America noi un cazzo cioè ci dobbiamo rendere coppite perché l'abbiamo fatta la rivoluzione e c'è una risposta semplice perché noi abbiamo il Vaticano e il Vaticano è un posto un luogo importante politicamente non si può destabilizzare l'area del Mediterraneo perché l'area del Mediterraneo serve agli stati uniti d'America per piacciarsi in suasi è fondamentale questa cosa qui è stato stavolto da tutti è così cioè gli ISIS vanno a rompere i coglioni in Isilterra ma come mai non vengono in Italia perché quegli ISIS passano dall'Italia e se fanno gli attentati in Italia l'Italia è costretta politicamente gli italiani a migliorare i controlli che ci sono e loro non potrebbero più passare all'Italia per andare in Europa e fare gli attentati quindi l'Italia è salda nell'istante in cui ci sarà un attecuto degli ISIS in Italia è un attecuto che stanno finendo pensateci bene perché questo vuol dire anche che non si potrebbe escludere che sostanzialmente i nostri segreti avessero preso degli accordi segreti perché no con ISIS andate a rinforzare gli inglesi non ci sono le parole basta che non vede qui tanto noi abbiamo già un governo fragile perché no è un'ipotesi il da l'altro però si dovrebbe versarci in tanti allora facciamo un esempio sull'alimentazione l'alimentazione del mondo felice noi abbiamo un certo livello di coscienza di coscienza l'alimentazione tu sai quello che mangi non ho sempre qualche volta che lo sei detto di dire allora mano a mano che il nostro io cambia e noi diventiamo sempre più consapevoli di noi in qualche modo dal nuovo primitivo a oggi è cambiata non solo la nostra vendatura ma in tanto la nostra coscienza dell'alimentazione in questo contesto siamo unnevoli diventi sempre più meno carnivori certo c'è sempre tanta gente che mangia la carne o non c'è problema però stiamo diventando sempre più evivori e poi finalmente nel mondo felice futuro infinito in fondo all'universo quando l'universo stava a definire noi non mangeremo più niente come dicevo quel signore lì che mangiava c'è solo la luce noi ci dimostriamo di luce era contento questo signore tedesco ma come fa lei come vive io sono tutto il giorno rinqueo nella foresta cammino vado avanti con i fiori faccio le cose dormi ma come fa ma al supermercato e io sono venato e non ci vanno i soldi e niente dei soldi ho mangio però ho bisogno dei soldi e l'intervistatrice non sapeva più cosa dire così come noi nei stati di cui acquisiamo questa preferenza di noi comprendiamo che la mucca che noi ci mangiamo è in realtà non una risorsa compatibile non una risorsa compatibile perché noi nel mondo felice dobbiamo pensare alle risorse le risorse che sono accendi il fornello accendi la luce come si fa? cazzo di risorse ci abbiamo nel futuro nel futuro ci abbiamo le risorse precise che sono quelle dei quattro elementi aria terra acqua e fuoco il fuoco l'energia geotermica poi il gattare la terra l'energia geotermica la terra i galti il fuoco l'energia del sole eolica solare scusate con i maneri solari l'energia eolica è quello del vento cioè dell'aria tutto ciò è sostanzialmente l'energia che ti dà i quadri sono animamente corpo e spirito l'acqua è l'acqua che fa scorrere che fa girare la turbina non è il petrolio che fa girare la turbina allora queste sono le energie del futuro non ce ne sono altre perché sono eco sostenibili eco compatibili e vuol dire un'altra cosa vuol dire che per esempio tutta l'industria chimica che noi abbiamo oggi i soldati dell'industria chimica rappresentano l'85% dell'avvenimento di tutta la terra l'85% sono i soldati usati nell'industria chimica ti immagini che usare fare le reazioni in acqua sarebbe una cosa meravigliosa si può fare alcune già alcune industrie stanno tentando di fare ma la cosa interessante la cosa interessante è come dire che deve cambiare questo che il rapporto che c'è tra l'industria per esempio e l'università l'università è una cosa che è di un'industria si devono diventare una cosa sola l'industria non deve fare i prodotti per bene l'industria oggi che cosa fa fa cose per creare dei bisogni che poi ti fa credere che ti ha salvato la vita perché ti ha dato la risposta al tuo bisogno in realtà è l'industria che ti crea i bisogni e poi ti vende il prodotto che ti tappa il buco ma se l'industria non ti creava questo bisogno non ci sarebbe stato bisogno niente dell'industria e tutto sarebbe andato benissimo cioè ora ognuno di noi ha 14 telefonini e quando non ci avevano il telefono come si faceva ve lo ricordate? io me lo ricordo perché io sono nel 1951 non telefonavo e che cosa succede oggi con il mio telefonito? non rispondo al telefono non cambia nulla mi telefona e io non rispondo perché? non ne ho voglia e ecco guardate il fare del genere non ne ho come non ne ho voglia sì non ne ho perché ma come? dream fa dream te devi rispondere perché dove sta scritto? chi l'ha detto? l'undicesimo comandamento? quando fa dream devi rispondere? no c'è l'ordine di telefonare sì non c'è l'ordine no ecco questo è un rapporto diverso che devi avere con la tecnologia la tecnologia è a servizio dell'uomo non è un uomo a servizio della tecnologia questa è una cosa che il mondo futuro questa è una cosa che il mondo futuro sarà chiara cioè ma allora perché non c'è il mondo futuro il mondo futuro è il futuro non ci vuole essere ove no il mondo futuro è qui nel unico istante in cui esiste questo mondo cioè un spazio attemporale il tempo non esiste lo dice la filosofia la fisica quantistica esiste solo il presente non c'è il passato il presente e il futuro c'è solo il presente questa è la fisica quantistica moderna magari domani in un contesto differente chiariremo anche questo aspetto della questione però questo vuol dire che noi non dobbiamo aspettare che questa cosa avvenga in futuro facciamola ora perché la sostanzialmente l'aspetto fondamentale di questa cosa è che noi dobbiamo avere un target un obiettivo l'obiettivo potrebbe essere il mondo felice ma in questo mondo felice che è un nome che potrebbe portare in confusione la gente non capisce di cos'è ci sono due aspetti fondamentali che cos'è il mondo felice è la sopravvivenza o è la capacità di vivere in differenza c'è tra il vivere e il sopravvivere e allora ci rendiamo conto che oggi noi lo stiamo vivendo secondo il mio modestissimo punto di vista noi stiamo sopravvivendo sopravvivendo di fronte a una maniera di difficoltà ma ti tocca pagare l'età se ti tocca andare all'ospedale il medico parla con la tua malattia non parla con te guarda la cartella medica e non ti studia neanche negli occhi perché non sa che la malattia è l'espressione della medicina del medico te sei malato e la malattia sei te perché i medico quando ti hanno tagliato la gamba e te ti buttano fuori dall'ospedale e ti dicono lei è guarito un cazzo la gamba dov'è? questo mi devi dire al medico così lo capisce chi guarda il medico non capisce perché gli hanno insegnato così gli hanno insegnato così non è colpa sua è la scuola di medicina italiana che è fatta così bravissimi grandi medici grandi apparecchiature a Pisa c'è l'ospedale più grande d'Europa però il medico parla con la malattia te non ti cargarai meno che sei un portatore di malattia cioè sei un portatore del suo lavoro e il piano quando vai dal medico e dici guardi che ognuno di noi si deve guardare da solo e ognuno di noi è colui che si fa la sua malattia perché la malattia sul corpo all'esterno è la rappresentazione di quello specchio che hai nella tua incapacità di sopravvivere che tu manifesti con l'esterno con l'esterno ma non è vero non è vero non è vero come diceva un medico che scriveva su facebook qualche tempo fa e che diceva no, la malattia diceva una tronzata perché dice che i tessuti carcinogeni hanno l'entropia più bassa dei tessuti sani ma questo non è vero perché su Medline non c'è scritto io, meno male vedete io non ho grande scienza però non ce l'avevo fra le mani perché se no ci facevo il noto di Salomone questo medico qui perché questo signore non ha capito della vita niente niente nel senso della parola non è un problema e io capisco di essere non ancora integrato non ancora preparato perché io non sono razzista però gli stupidi mi stanno sulle palle perché giustamente io ho vissuto in un mondo di stupidi e perché ho vissuto in un mondo di stupidi? perché ci sono specchiato fino a ieri perché chiaramente io c'erano delle cose che non comprendevo e io le comprendevo e ci avevo davanti a me lo stesso stupido che ero io ora un po' nesco devo dire la verità però c'è ancora un casino di gente che mi gira di più nell'ottimo segno ancora fossi lontano l'idea fondamentale io non voglio poi togliere tempo al domani ma ci sono ancora tantissime cose che si potessero che si dovrebbero dire però sostanzialmente voglio concludere con un'osservazione semplice noi siamo in realtà in questo mondo felici e noi dobbiamo costruire qualcosa dobbiamo solo togliere delle cose che non ci sono che non servono perché servono a qualcun altro che non siamo noi quando la voce è una posta piena di carta di carta pubblicità di te? questa carta è la foresta dell'Amazzonia ma è riciclata? ma è sempre la foresta dell'Amazzonia è riciclata e non è vero riciclare la foresta dell'Amazzonia ti telefonano buongiorno lei è il signor Corrado? quando ti senti dire questo io prenderei il telefono lei è il signor Corrado quindi ne vogliamo fare un'offerta importante perché su Sky ci sono e quindi io la televisione non ce l'ho ah come lo faccio? no lo buttate da fuori dalla finestra ma le partite non le guardano? no che mi frega a me della di Pertus o dell'Inter posso parlare con solo no se uno scappo lo separato divorziato non me ne fa più cazzo grazie ma io ho bisogno di qualcosa bisogno di qualcosa parliamo un attimo di bisogno io vado e cerco il bisogno non che uno viene a romper le cose a me a casa lei cosa fa? è l'energia o l'energia io sono della fate bene fratelli guardi che lei sta pagando di più ma sì? e lei come lo sa? eh sicuramente lei non ha controllato la sua bolletta mi faccia vedere la sua bolletta non gliela voglio far vedere ma lo sa che la legge non vuole che lei deve dimostrarmi la domenica e io mi importo una segna di lei e la domenica mi rispondo così allora che problema c'è? non lo può fare anche voi che è divertentissimo questi poi non vengono più non ti rompono più le palle e noi scopriamo sostanzialmente un po' dobbiamo prendere un po' a dare un po' questa cosa no? che ci sono sostanzialmente due categorie di persone no? le persone che sopravvivano e le persone che invece vogliono vivere e la caratteristica io ne ho conosciuto tante le persone che sopravvivano no? c'era anche un importante uomo giornalista che lui vuole sopravvivere cioè non è fatto il caso nel domani basta che ci andiamo a mangiare per oggi però non è io no io non sono così io a me piacerebbe costruire un mondo felice perché è il mio mondo potrebbe non essere il vostro perché ognuno c'è il suo mondo felice che poi alla fine sarà un mondo felice uguale per tutti perché tutti avevano la stessa consapevolezza ma in questo istante magari il mio è diverso dal vostro e mi piace perché il mio mondo felice anche purtroppo Donald Trump è una parte di me purtroppo è una parte di me e non so come farci Putin è una parte di me da quando è arrivato i mettoni a a Berlusconi sono anche più simpatico però io a me il percorso di revisione di consapevolezza tutti fanno le cose per se stessi allora io lo faccio per me stesso perché più gli altri acquisiscono consapevolezza e più io faccio prima di arrivare in fondo a mio mondo felice quindi pensate che lo faccio per me non lo faccio per nessun altro lo faccio solo per me ecco però sostanzialmente la differenza e poi concludo è che l'universo ora si divide in due categorie fondamentali le persone che hanno che non vogliono morire le persone che non vogliono morire sono gli alieni sono gli alienati sono quelli senza parte amica sono quelli che hanno veramente la paura e la paura la paura nasce dalla separazione tu hai paura perché hai qualcosa che non hai perché se c'era di sì non avresti paura quindi vuol dire che tu non sai di essere tutto quindi vuol dire che tu vivi una tua parte di te separata da te ecco ci sono queste persone che non vogliono morire tra questi ci invito chiaramente i mazzoni perché la mazzoneria la chiesa e altre parti del nostro universo sono caratterizzate dall'idea che devono comandare in eterno devono vivere in eterno devono stare in eterno e per fare questo non hanno nessuno scopolo nell'utilizzare le risorse degli altri allora ecco che queste persone sono quelli che utilizzano le tue risorse l'arriero fa lo stesso l'arriero viene qui e utilizza la tua esperienza per vivere lui utilizza la tua anima utilizza la tua energia utilizza la tua capacità riproduttiva no? e cosa fa un multinazionale all'estero? la stessa cosa quindi come vedete non è che noi ci dobbiamo in qualche modo indignare indignare del fatto che ci sono gli alieni o che c'è la massoneria perché sostanzialmente una parte di noi è una parte aliena da questo punto di vista quando però l'abbiamo capito abbiamo capito anche che la gente che ha paura di morire che non vuole morire è solamente una parte che non deve essere confusa con l'altra parte cioè la gente che non vuole soffrire che è diverso allora si deve morire perché attraverso l'esperienza della morte si fa l'esperienza della vita eterna qui non muore nessuno in questo universo la morte non esiste ma ti hai paura di morire perché non lo sai il tuo contenitore è morto dall'inizio è un cappotto te te lo metti e il cappotto si muove perché ci sei te dentro e si muove ma il cappotto è morto sempre dall'inizio alla fine chi di la vita siamo noi che siamo dentro a sto cappotto allora morire e sempre è la cosa la prevolezza della morte perché in quell'istante comprenderai che la morte non esiste e che l'universo è eterno il non soffrire è un'altra cosa il non soffrire è l'idea che ti dice porca puttana sai cosa bisogna fare il mondo felice perché è attraverso il mondo felice che noi non soffriamo allora perché io devo continuare a soffrire andando tutti i giorni in dibattimento e trovandomi davanti una massa di coglioni tra studenti e docenti e infatti vado in pensione e quando ci vado in pensione nell'istante in cui ho capito che non ho più bisogno di specchiarmi con questa gente mi speccherò con altri sicuramente cercherò di continuare a fare il mio cammino verso quello che sarà il mio mondo felice perché io ho una cosa che è come dire è un compito importante lo faccio per me lo faccio per voi ma voi siete me e quindi siamo sostanzialmente sullo stesso piano quanto ci vorrà a fare questo mondo felice? perché? questa è la seconda domanda la prima domanda era ma lo vogliamo veramente il mondo felice? ma abbiamo già risposto alla vostra scorsa quanto ci vorrà a fare questo mondo felice? la risposta è niente il mondo felice è ora è subito qui in questo stante perché te non te ne accorgi te lo vedi te vedi i colori ma i magics non li vedi ma i magics si sono il mondo felice c'è ma te non lo percepisci non lo percepisci perché non hai quella consapevolezza che ti permetterà di percepirlo perché ognuno vede le cose che fa le cose che fabbrica le cose che costruisce come sua creazione quindi se te credi nel tuo mondo felice e lo pochi avanti questo mondo felice ce lo hai di fronte a te e te vedi gli altri e dici ma come fanno loro a non vedere questa cosa? mi succedeva con la mia collega quando la mia collega che fu mia astruttezza mi disse ma io ho vinto il concorso di un professore associato perché non ci trovi anche tu? a fare l'associato e cosa ne frega? e da lì capivo che da esterno questa non aveva capito che non serve a niente fare il professore associato non l'ha capito continuo a non capirlo eh? lo vedete però mi per istante ho capito che io vedevo l'universo da fuori tal lungolette come direbbe qualcuno e capisco che la gente non capisca ah ovviamente chiosa finale che poi diventeremo domani c'è un modo per capire questa cosa per capire che cosa sto dicendo certo che c'è secondo me non costa nulla è gratis dura un quarto d'ora il filo ha detto il test di amico flash fatelo ci sono le istruzioni parlate con la vostra coscienza quando l'avete integrata e chiedetevi ma quel coglione del malanda l'altro giorno ha questionato l'ha detto delle cose corrette oppure no e sarà la vostra coscienza che vi risponde credete nella vostra coscienza e non credete a me fino grazie 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 a tutti grazie per l'altro mi raccomando attento fai finta di aver detto cicollo perché quel microfono a volte perde vita le parole e niente iniziamo la sessione di domande che è più breve perché è seri educato nella conferenza ma iniziamo subito mi raccomando domande più brevi possibili non mini conferenze grazie professore qualche tempo fa mi sono svegliata chiedendomi cos'è lo spirito non lo sapevo più cos'è lo spirito allora possiamo affrontare il programma diversi politici però cerco di essere ok sì lo so siamo iniziati con la domanda tranquilla allora animamente e spirito sono tre gruppi di vettori e di tesori diciamola in modo più tecno più semplice lo spirito è la parte maschile di noi è la parte che continua l'ego è la parte che è riferita sostanzialmente all'uomo sinistro nell'est ovviamente le macchine contrarie è quella cosa che ha una coscienza sua personale è una coscienza solamente maschilista decisamente maschilista è quella voce che ti dice se devi assumere una donna assumi un maschio che è meglio questo lo dico sia per i maschi che per le femmine perché ed è il soggetto la coscienza portante della civiltà odierna che vede nella civiltà di oggi l'aspetto del maschile prevalere sull'aspetto del femminile quindi una chiesa governata da maschi un potere politico governata da maschi un potere politico dove le uniche femmine che ci sono sono vestite con vestito gessato che quando fanno vedere scendono per le risposte per far vedere che sono maschi cioè la femmina che fa la copia del maschio a noi non ci serve a noi ci serve una femmina cioè ci serve una donna sostanzialmente a governare il mondo con l'uomo non il maschio e la femmina da un punto di vista fisico è un gruppo di vettori lo spirito ha l'energia ha il tempo sa esattamente cosa è il tempo ma non sa che cos'è lo spazio quindi lo spirito è sostanzialmente dappertutto la condizione del qui e del lì è in ogni istante in ogni droga in ogni momento vede lo spazio il vettore spaziale in modo quantizzato e non locale al contrario della parte animica che invece ha lo stesso tipo di esperienza sulla parte temporale alla parte animica non chiedere quanti anni hai perché non lo sa alla parte spirituale non chiedere dove abiti perché ti dice dappertutto il suo prima ha parlato dei domani che avvengono quando l'anima decide di giocare fare quello che le piace la mia domanda è come se potrebbero facilitare durante l'ipnosi per sperimentare insomma conoscere meglio dunque questa è una domanda che potrebbe avere una risposta tremenda cioè uno si si può fare perché l'ipnosi noi l'abbiamo portata avanti in un modo incredibile quindi siamo andati oltre a Edison sicuramente sappiamo fare delle cose ora giustamente che Edison non poteva fare perché pur essendo un grande scienziato era di quel tempo lì e il frattempo è un diverso e l'altro avanti non è che io ho acquisito consapevolezza tutti noi abbiamo acquisito consapevolezza di questo quindi l'ipnosi riusciamo a fare delle cose incredibili con condizioni di causa perché ora abbiamo la chiave dentro ma che cosa ce ne frega a noi dei fenomeni banali detto in un altro modo chi è che fa i miracoli i miracoli esternamente gli faceva Gesù gli faceva Sai Baba gli faceva qualcun altro per quale motivo perché avevano bisogno di di far vedere alla gente che queste cose che questi mi sapevano fare quindi in realtà stavano vendendo dei prodotti in realtà la persona che sa fare i miracoli e che ha consapevolezza di sé non ha nessun bisogno di fare i miracoli quali problemi fisici potrebbero dare gli rischi di parassitaggi se per esempio l'angelo come ho intuito io e fa venire il torcicollo non so chiedo magari il lux può far vedere un mal di testa piuttosto che un altro dunque si si capisco allora nella identità rispetto ai problemi fisici di malassia di sintomo allora il corpo è uno specchio in qualche modo di esterno quando noi viviamo in un mondo duale crediamo che il corpo sia una barriera tra l'interno e l'esterno e quindi su questa barriera si focalizzano tutti quelli che sono quei fenomeni che a livello di realtà rituale esterna tu cerchi di comprendere perché all'interno non li comprendi quindi sostanzialmente all'addotto X gli fa male tra la quarta e la quinta vertebra locale non perché abbia dolore abbia nervi abbia qualcosa ma perché la sua parte coscienziale gli dice che attraverso quel dolore devi guardare lì che c'è qualcosa che non funziona ci guardi e ci trovi qualcosa che non è tuo il problema del mal di testa la gente dice il mal di testa essenziale il mal di testa che compare in qualche modo alla nascita e che non sai che cos'è nessuno sa che cos'è perché all'endembre la risonanza non si vive niente te sei sano con un pesce quello vuol dire che nella testa c'è qualcosa che non è tu ecco ti viene da vomitare c'era una ragazza dalle parti di spezia che vomitava e lei poi mi contatterà per una cosa completamente differente cioè mi chiederà delle informazioni completamente diverse o sulle vite passate o questa cosa del corso però in realtà quando te comprendi dopo 3-4 domande che gli hai fatto che lei è nel problema dell'aduzione e dopo l'ipnosi viene fuori da parte amica che dice io la faccio vomitare così lei si deve accorger di che è successo qualcosa stanotte quando dopo 2-3 ipnosi lei si libera del fenomeno biologico la sua parte amica dirà ecco ora non può più vomitare non serve più e non ha più vomitato quindi capite perfettamente come tutta questa serie di psicomorfismi che il tuo corpo manifesta sono legati in realtà a qualche cosa che tu stai estroiettando fuori ma che sono legate nel caso dell'aduzione ha un problema di malumore di malessere di non armonia che tu hai irrisolta dentro di te quindi ci sono c'è la psoriasi no? molti addotti soffrono di psoriasi la perdita del sangue dal naso la perdita del sangue dal naso è una vera e propria problematica perché il soggetto addotto gli rompono l'osso stenoide e quindi ogni tanto perde sangue dal naso ci sono problematiche sulla gravidanza gravidanze finte che in realtà sono vere ma poi non si capisce questo fetto che finì affatto e questi sono gli aspetti che ti hai sul corpo poi ci sono gli aspetti mentali gli aspetti della paura di dovere in qualche modo ripinare la testa al potere di qualcun altro l'addotto si è sempre staccato di lettera e ha una caratteristica di una grafia in cui si vede chiaramente che lui anche se si incazza poi alla fine fa sempre quel problema che può essere il suo babbo o l'allievo quello che viene a prendere quindi sostanzialmente riferite alle cicatris che ci sono nella testa di un addotto e nel corpo di un addotto sono sempre infiniti quali sono l'entità cioè tipo per esempio ma di testa è lux no 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 non ci sono identificazioni di questo tipo perché ognuno somatizza in un modo completamente ok buonasera professor Marangas io volevo chiedere che lei ha parlato di asimmetria di mancanza di simmetria che non genera ostacola la venuta del mondo che dice ma visto che siamo noi a giocare in questo gioco e quindi siamo noi i creatori c'è qualcuno che sta giocando contro le regole c'è qualcuno che sta barando e se sì come facciamo noi a far sì che questi che stanno barando non si mettano e ricostituere la simmetria e la manca allora come ho sottolineato secondo me c'è una strategia ed è una strategia molto interessante perché è una strategia innovativa anche se si potrebbe pensare che è una strategia che non serve a nulla ma sapete nulla è tutto poi su una stessa cosa allora noi abbiamo fatto nel corso industriale di umanità ha fatto diverse rivoluzioni ha fatto sicuramente una rivoluzione culturale una rivoluzione militare una rivoluzione economica una rivoluzione sociale una rivoluzione industriale una rivoluzione politica c'è una rivoluzione che non l'ha fatta è la rivoluzione della coscienza nel istante in cui la coscienza comprende come stanno le cose la glorificazione la simmetria la glorificazione di anima mente e spirito di una coscienza quello che accadde è che ora la deve fare questa rivoluzione coscienziale e come la faccio la faccio non facendo niente o meglio la faccio dentro di me io dentro di me come il friare con il testo di Alicoflash metto insieme l'anima mente e spirito ricondugo il tutto a quello che era la coscienza iniziale io acquisisco la consapevolezza di chi sono veramente e automaticamente siccome sono i creatori del universo che è il naso credo questo universo all'esterno nel crearlo all'esterno ho creato dell'armonia cosa succederà qui? succederà che io non farò i girotondini non fonderò un partito politico non farò un gruppo militare di terroristi non andrò a mettere le bombe nelle banche non creerò una moneta alternativa non farò un altro partito politico non farò niente la rivoluzione la faccio dentro di me e se tutti fanno la rivoluzione dentro di sé quello che mi aspetto mi succeda se ho detto correttamente le cose è che l'universo cambi domani mattina a Renzi non c'è più io ho ricordi di avere tutte le traduzioni in un altro sonno come posso fare a risolvere cosa mi è successo perché arrivati ad un certo punto voi si parisci bellissimo ci sono dei trucchi incredibili anzi a questo proposito devo sottolineare io ho smesso di fare i bronzi quando avevo imparato bellissimo un po' mi dispiace perché era divertentissimo da una parte era divertentissimo perché capivi i massimi sistemi da parte anima come si muoveva le cose lo spazio le cose meravigliose da tra parte capisco che quello non era il progetto corretto perché ognuno deve lavorare su se stesso perché lavorare con un altro il quale ti aiuta a fare qualcosa in quel aiuto ti toglie a te la consapevolezza di come avresti fatto se non fossi stato aiutato cioè ti tira fuori dal problema il progetto 10 giorni dopo ci riservi perché la tua coscienza non ha compreso ma ha utilizzato solo la coscienza dell'ipnologo in quell'istante l'ipnologo in quell'istante ero io quindi con le mie con i miei deficit coscienziali perché io non posso farti vedere una cosa che è sopra di me se io ho una coscienza 80% che al massimo vedi 80% e se io ho il 20% di non coscienza quel 20% te lo passo anche quello e quindi ecco perché non faccio più queste cose perché bisogna essere un cristallo per fare queste cose e e allora l'unica possibilità è che ognuno se ne faccia l'assunto e in questo contesto ovviamente c'è le triade con testa da seguire alla lettera se neanche due tre volte se lo legge uno e se lo fa ma ma questa ne parleremo domani del come si fa con il come si può stare eccetera però ci sono dei trucchi i trucchi banali ne segnalo uno solo che è divertente che è la tecnica delle ancore la tecnica delle ancore che noi abbiamo un po' sviluppato che era invenzione della programmazione non linguistica ma l'abbiamo parecchio risponderata la tecnica delle ancore allora al di là del nome e del come funziona lei ha un ricordo un ricordo che è il raffinato punto facciamo un esempio ero a letto ero a letto c'è una luce accesa e ero lì che stavo leggendo il giornale a un certo punto succede qualcosa per cui io vedo qualcosa che però non capisco e il giorno dopo mi svento allora benissimo una sola immagine serve quella lì lei sta leggendo il giornale lei ha la luce accesa immagino di vedere questa fotogramma come se fosse un fotogramma tridimensionale perché lei lo vede e lo analizza fermo fisso non succede nulla è un fotogramma tridimensionale fermo fisso quindi guarda a destra guarda a sinistra guarda il giornale si ricorda che cosa stava leggendo guarda le fotografie vede come era piegato il giornale sente il numero della carta del giornale e in qualche modo vede dove finisce dove viene la luce vede il colore del pijama guardi le coperte vede con l'occhio con il colore dell'occhio la lucina il comodino sente che qualcuno sta lavando i piatti di là si vede la stessa scena da un'ipotetica telecamera posta in alto sull'armadio così e lei si vede a letto con il giornale si vede le coperte si vede la luce si vede tutto in tre dimensioni come aveva visto dal basso però ipoteticamente come un CAD computer assistant design come se lo vedesse da un'altra parte dall'esterno come lo vedrebbe da lì così e guarda tutti i particolari colore dell'alto nero della luce guardi se c'è qualcosa che cambia perché dall'alto subente cambia un po' le ombre un po' le cose un po' se ci sono dei utori diversi si sente sempre il rumore nella lotta dei piatti dall'altra parte e poi mentre sta guardando bene guardi bene sta guardando sta guardando il giornale sta guardando un'altra cosa conti fino a tre e poi gli aspetti e muovano la scena come se la guardasse in un televisore solo che la guarderà dall'alto e gli viene poi un casino notate la impostazione delle voci in modo di evocare le cose questa è però la tecnica dell'ipnosi il carino ti porta dentro no? sei lì nessuno respirato va bene ragazzi ciao voglio fare questa domanda nel percorso di integrazione delle tre spere può succedere che ci sia un errore e l'integrazione avviene ma in realtà non lo è? certo 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 buona domanda l'integrazione avviene possono dire spere però poi domani metterò diffusamente in questo lato le spere dopo che vai a fare una verifica il giorno dopo le ritrovi staccate è un esempio le ritrovi staccate oppure le ritrovi sempre unite ma c'è un problema non ci sono le risposte corrette le risposte giuste la coscienza quando è unificata ed è unificata in un vero modo cioè non torna più indietro non si stacca infatti è irreversibile quando parla e ti dice delle cose ti comunica delle cose te le comunica in modo molto semplice con una struttura del linguaggio molto semplice un predicato è un verbo di solito il complemento oggetto manco c'è però è immediata la cosa oppure un'immagine oppure una sensazione quando le cose si invece protraggono cioè la coscienza fa lo spiegore e quando soprattutto parla ancora in modo duale perché gli angeli sono buoni e noi siamo fattivi ma gli angeli cioè faccio per dire oppure te quella volta ti sei comportata male oppure te devi scendere oppure devi salire cioè sono tutti termini duali c'è qualcosa che non funziona allora in quel contesto si possono usare delle tecniche innanzitutto la coscienza deve essere riconosciuta quando sono sicuro che io ho fatto un'integrazione giusta sono sicuro quando non ho più dubbi perché la mia consapevolezza la mia coscienza è quella della coscienza integrata quindi se sono integrato non mi faccio più questa domanda se mi faccio la domanda ma sarò veramente integrata vuol dire che non lo so questo è banale facile è la stessa la stessa tecnica che si usava quando il soggetto diceva ma se io sono una copia lei non mi ha copiato ha fatto una copia di me e se io fossi la copia ecco se ti poni questo problema vuol dire che non sei la copia perché la copia è un golem questo problema non se lo può correre quindi strutturalmente essere interattivi con quella cosa che sembra essere la nostra coscienza chiedeli innanzitutto verificare la sua totale trasparenza perché trasparenza vuol dire invisibilità non si vede niente non è una bolla di sabone dove c'è un dentro e un fuori no non si vede niente tu sei la tua bolla di sabone tu sei la coscienza si può toccare se te fai così senti qui non c'è niente c'è l'aria però se te la tocchi l'aria senti che qui c'è qualcosa c'è la matrice di punti di luce la stai toccando c'è lo senti la tocchi questa è la sensazione allora la tua coscienza sei in te e non ti puoi ingannare e la tua coscienza ti dice quello che devi ancora fare quello che devi ancora risolvere sul processo di separazione perché la coscienza non si riunisce totalmente il tercera non si riunisce totalmente se te prima non hai risolto un processo di separazione nella realtà virtuale che non hai ripreso in considerazione la separazione del mio babbo la separazione del mio ex la separazione del mio figlio la separazione è sempre da un maschio sostanzialmente quasi marga la madre a meno che non fosse la madre padrona e rompi palle in quell'istante la tua coscienza ti dice tu non hai ancora risolto questo problema soprattutto delle femmine sapete le abbiamo trovate tante le femmine che avevano il problema della violenza sessuale cioè la violenza sessuale è subita da piccola o subita anche da grande e poi il soggetto femmina ha difficoltà a sviluppare l'idea dello staccarsi totalmente dal suo diventatore aspetta anni che questo diventatore venga un giorno a casa sua bussi alla porta si apre la porta e si scusi con te per chiudere il luogo non succederà non succederà non succederà ma quello è un aspetto fondamentale che per esempio permetterà di ero di non andarsi perché te non ti sei staccato da tu il diventatore io sono uguale a lui e tu non ti potrai staccare neanche da me quindi bisogna fare lo sforzo di comprendere che cosa c'è che non va nell'istante in cui si sente il click che le tre spese un'unità che diventa tutto trasparente la stanza non c'è più c'è l'universo esterno fuori tu stai guardando un fuori che è il tuo dentro perché non c'è più un fuori e un dentro da dentro si guarda fuori ed è da fuori che si guarda dentro quindi c'è la coscienza una volta e aveva ragione sostanzialmente secondo me in quei stanti te lo sai perfettamente non perché te l'ha detto qualcuno non perché te l'ha detto ma l'arca lo sai che hai trovato la tua integrazione se non dubiti sempre prima perché prima hai detto che la coscienza si divisa per caso anziché iniziere consapevole perché la consapevolezza prima non c'è è semplice la coscienza è totalmente inconsapevole di sé cioè ha un'entropia meno infinita come si vede nel nostro seno universo è meno infinita non sarebbe neanche nero l'entropia è sempre zero però quello che si sta per creare è un universo e un antiliverso fatto di materia e di antimateria nell'istante in cui si crea i due universi che sono legati alle due coscienze le due parti che sono divise una è fatta di materia l'altra è fatta di antimateria uno avrà entropia meno infinita l'altra è entropia più infinita che danno sempre zero le due entropie aumentano ma sempre zero sempre zero sempre zero sempre zero sempre zero sempre zero vedete che è simmetrico il miracolo è simmetrico questo è il valore dell'etropia alla fine all'inizio faccio l'animazione allora all'inizio ci sono tre momenti di acquisizione di consapevolezza i tre momenti di tu da Murgia a Gesù Cristo a Buda uno, due, tre primo momento non ci ho capito una mazza non so chi sono secondo momento cerchiamo di capire terzo momento ho capito tutto il primo e il terzo momento sembrano uguali esempio la coscienza è una ma non sa di esserlo si divide cerchiamo di capire il punto numero due quando ho capito si riunisce punto numero tre punto numero uno guarda avere una coscienza unita all'inizio e una coscienza unita alla fine sì ma all'inizio non ci fa più un cazzo cioè io non so chi sono alla fine tre io ho tutta la consapevolezza cioè l'entropia del zero è rimasta zero ma la consapevolezza da meno infinito è al barattro a più infinito quindi io so chi sono ma l'altro sono sano mi ammalo guarisco punto uno punto tre sono sempre guarito all'inizio e alla fine ma alla fine sono sano e non capisco come ammazza sono cioè poco consapevole di me acquisisco la consapevolezza che devo fare un percorso di consapevolezza e mi ammalo per comprendere che cos'è la mia malattia dentro la malattia guarisco da questa malattia e quindi ho acquisito la consapevolezza del fatto che mi ero ammalato e mi sono guarito quindi ho risolto il mio problema guarito ma questo guarito qui non è un guarito non malato iniziale questo sa le cose questo non le saperebbe analogo a Osli in tutti i processi di acquisizione di consapevolezza ci sono questi tre step primo step alchemico sono fuori dal labirinto secondo step vado all'interno del labirinto faccio tutto il percorso coscienziale psicoanalitico simbolico alchemico tutto quello che ti pare arrivo al centro del labirinto vuol dire sono arrivato al centro di me ho capito chi sono il problema finale in quell'istante in quell'istante il labirinto scompare non devi tornare indietro non devi uscire dal labirinto non si torna mai indietro ma l'entropia aumenta sempre in quell'istante come si fa a essere fuori dal labirinto il labirinto scompare perché il labirinto l'hai creato te il labirinto è stata una tua esigenza per capire che dovevi andare nel labirinto per fare l'esperienza di te quando sei dentro a te non c'è più nessun labirinto il labirinto scompare così va dentro la mia coscienza tu ti fissavi fuori punto numero uno numero uno punto numero tre sei fuori dall'abirinto punto numero uno e fuori dall'abirinto che differenza c'è? hai dovuto fare un percorso di consapevolezza sei fuori dall'abirinto del punto 3 hai fatto il labirinto quindi hai fatto ti sei manifestato attraverso il fare quindi tu sei solo perché fai perché se non fai non sei niente esatto eh salve prossima sì devo chiedermi come mai le funzioni che potrebbero essere legate a momenti di paura a momenti di se o come questo aspetto insomma come si manifestano come mai se non si ricordano non di ricordate se sono legati a momenti di paura o come potrebbe sembrare insomma la sì la so la so la so no ma c'è anche più il senso qui ha sempre la so la so però la domanda con più risposte però c'è quell'essere tranquilli allora una delle cose che avevamo visto è che somente nelle adozioni non sempre ma somente un gruppo di addotti faceva sogni bianco e nero e noi ci siamo resi conto che quei sogni non erano sogni ma erano in realtà vere e proprie intuzioni che il soggetto proprio alla mattina interpretava come sogni il problema del colore del bianco e nero è interpretato dalla protezione cerebrale c'è una parte di protezione cerebrale che ti fa vedere le cose a colori ed è la stessa parte di protezione cerebrale che fa vedere le emozioni quindi nell'istante in cui tu sei decerebrato dalle emozioni vedi il bianco e nero che cosa fa l'alieno oppure tu stesso inconsapevolmente è una tecnica di programmazione linguistica questo primo fra un attimo elimini il colore così elimini la paura elimini l'angoscia elimini l'ostordimento elimini tutto quello che ti potrebbe far venire un infarto e che cosa fa l'alieno cerca di fare la stessa cosa cerca sempre attraverso tecniche che io non conosco ma che sicuramente sono legati alla manipolazione della cortecce cerebrale di non farti avere un'emozione perché se te hai un'emozione forte è chiaro che hai difficoltà di dimenticare questa cosa cosa ci si ricorda della vita quando ti ha dudato una martellata sul piede poi te la ricordi dopo 40 anni ti ricordi sempre le cose così traumatici così forti così dolorose così incredibili perché sono come uno scarpone nel fango l'impronta è profonda e quindi l'anieno ha meno possibilità di passare inosservato e di far passare inosservato il suo ricordo la programmazione neurolinguistica quando ti vuol far ricordare il gramma che tu hai da piccolo vissuto quando sei rimasto chiuso nello sgabuzino e nel momento che è venuto la claustrofobia ti fa ricordare tutto l'evento indiacquileto proprio per evitare che ci sia un impatto emotivo che a un certo punto ti blocchi il ricordo perché tu non voglia più ricordare perché ricordare hai parola di risoffrire allora in questo contesto questo è uno degli aspetti fondamentali che cosa accade poi quando l'anieno viene l'anieno viene e ti confunde l'indice del libro cioè certo il ricordo di tutto il ricordo non è nella mente ma è nella cassa generale Primbram che è un neurofisiologo con Coslin che è un altro neurofisiologo ma lo stamento chiaramente che il cervello è un lettore di organi e i ricordi non sono nel cervello è certo che non sono nel cervello perché i ricordi non ci sono perché il tempo non passa noi viviamo solo in un unico istante che è il presente quello che noi ci ricordiamo è in realtà una figura del passato con presente con il presente cioè una cosa che succede ora in un'altra stanza che si chiama passato ma è presente se no non ce la potremmo ricordare allora da questo punto di vista l'alieno agisce sulla fortezza cerebrale sconvolgendo le pagine del ricordo in qualche modo tu hai questo ricordo ma non sai in che pagina l'hai messo perché non c'è più l'indice quindi non sai più il processo neuronale il percorso neuronale non sai più dove andando a recuperare questo ricordo però ce l'hai questo si vede perché inconsapevolmente me lo dici esempio test di autovalutazione hai mai visto degli esseri diversi da te oppure hai mai sognato degli esseri diversi da te le risposte possono essere sì no non ricordo ecco non ricordo come dire sì sicuramente nel mondo che dice non ci saranno i dacidi no non ci saranno i dacidi non ci saranno i dacidi non ci saranno neanche le case farmaceutiche e non ci saranno nemmeno vari garattini che ti dicono che sai cosa si fa prima di ammalarsi prendiamo le medicine e prima non ci sarà tre posizioni passando alla malattia cioè tra la malattia e la coscienza finale senso raggiunge la morte dunque il problema della morte è un problema speciale se non dire le cose più utili però lo so uno muore quando vuole morire se no non muore cioè non so come dirlo dentro di sé lo sai quando hai deciso che non c'è pulmonia e allora in quel istante decidi però va detto un'altra cosa che si sovrappone a questo concetto qui perché così diamo la risposta finale del pezzo che manca tra la morte e la presa di coscienza noi abbiamo tanti contenitori che non sono passati e future sono tanti contenitori che vivono con la nostra parte animica contemporaneamente sulla fine line sulla line del tempo questi contenitori rappresentano sulla fine line una esperienza animica che entra in tutti i corpi in 10 almeno 44 secondi se ne fa minuti in modo tale che tu non hai percezione che sei anche in un altro corpo anche in un altro corpo anche in un altro corpo non ce l'hai questa percezione ma questo accade per la parte animica per la parte spirituale lo stesso nello spazio e per la parte mentale lo stesso nel tempo così animo mente e spirito rappresentano una sfera coscienziale la sfera è la rappresentazione della onda non della particella cioè tu sai che esiste la coscienza ma non sai localizzarla non sai dove ma non a mano che la coscienza viene acquisita questa sfera diventa più piccola più piccola più piccola più piccola più piccola e si riunisce tutta l'ultimo contenitori negli istanti in cui tu hai acquisito la consapevolezza cosa succedeva negli addotti che noi trattavamo nel tempo e con le ipnosi che questi cominciavano a ricordarsi tutte le due esperienze delle dite tra virgolette passate non tutte perché questo era l'ultimo contenitore e quando tu chiedi alla parte minima ma quanti contenitori farai quello ti diceva sempre no questo è l'ultimo ma solo quando avevi trasformato l'onda di probabilità coscienziale in un puntino a quel punto tu muori per l'ultima volta negli istanti in cui tu muori per l'ultima volta è il tuo ultimo contenitore gli altri contenitori non ci sono più e non ci sono mai stati perché esiste solo il tempo nel presente in quell'istante è incredibile ma noi muoriamo tutti contemporaneamente perché l'universo dura 10 alla meno 44 secondi anche se ci sembra lunghissimo non è che uno vuole prima e uno vuole dopo tutto ciò accade solo perché il nostro cervello lo vede ma tutti noi siamo parte di una unica identità che finisce l'esperienza in un unico istante come la cominciata a noi individualmente ci sembra diverso ma nell'istante in cui moriamo definitivamente come ultimo contenitore e quindi che cosa vuol dire? vuol dire che se io decido di morire ma non ho ancora acquisito coscienza ho altri contenitori nella timeline dopo ma in quell'istante comunque l'istante in cui io sto per morire non ho ancora acquisito la consapevolezza che però acquisirà l'ultimo contenitore nella sua altra esperienza questo che cosa vuol dire? che comunque tutti alla fine avranno acquisito tutta l'esperienza necessaria in quell'istante ci sarà un ultramondo felice cioè noi avremo creato un mondo felice virtuale ma uniremo la realtà virtuale con la realtà reale ma questo è uno aspetto successivo secondo me cioè è un ultra mondo felice un mondo in cui noi abbiamo capito che possiamo essere sia romina che particella sia maschio che femmina sia vuoto che pieno e possiamo decidere di fare quello che ci pare voglio essere vuoto sono vuoto voglio essere pieno sono pieno voglio essere tutte e due le cose sono tutte e due le cose e quello che sostanzialmente succede succederà è un po' imprevedibile ma io mi immagino che siccome tutto l'universo ha la stessa consapevolezza tutto l'universo decide di fare la stessa cosa quindi faremo girare la giossa come vogliamo noi buonasera allora io vorrei fare una domanda che in certo senso si rilascia al discorso che lei ha appena fatto e a questo punto io volevo chiedere ma io come individuo per esempio io come individuo che ne sto parlando in questo momento alla fine chi sono cioè quando questo contenitore per esempio finirà per esempio se la parte animica se ne va per conto suo non se ne va per conto suo non si sta comunque comunque cioè dove dove mi avrebbe in un altitesta cioè se io penso che la mia coscienza è divisa in tanti corpi dislocati geograficamente in tanti posti via spirito in tanti in tanti contenitori sulla timeline magari in tanti contenitori energeticamente parlando e tutto il resto cioè ma io adesso ho coscienza di essere io qui non ho coscienza di essere da altre parti quindi per dire quando finisce questo contenitore per esempio io che cosa mi succede secondo lei ovviamente dipende dalla situazione coscienziale secondo me se questa attività è corretta quando io finisco questa esperienza se non l'ho finita la storia in realtà finendo in questo contesto in questo momento attraverso altri contenitori quindi la mia coscienza comunque sta andando avanti nell'istante in cui io invece mi integro attraverso un sistema che potrebbe essere anche il creare della testa del ecoflash se esiste qualche altro sistema bellissimo chi se ne frega però questo è quello che conta in quell'istante io chiedo la mia coscienza questa domanda e la mia coscienza mi risponde e mi fa vedere le cose come sono perché io sono il creatore del universo e quindi in quell'istante tutte le domande che faccio la mia coscienza hanno risposta perché non esiste più nessuna domanda in quanto non esiste più nessuna risposta perché la domanda e la risposta sono un concetto duale e la dualità è finita eh sì però dico ma la mia individualità che fine fa dicevo? ah l'individualità cioè io facciamo un esempio di tipo fisico all'inizio l'universo è un unogramma secondo le teorie che mi trovano abbastanza d'accordo moderne l'universo è un unogramma frattacico quindi un unogramma un unogramma che è legato sostanzialmente a teori la matematica degli unogrammi è tridimensionale a x y z l'unogramma però è una luna io vedo la luna quindi sono noi siamo noi e l'universo ogni pixel dell'unogramma per definizione contiene tutte le informazioni dell'unogramma generale solo che quando io vado a ingrandire con una letta di intervento un pixel vedo un quadretto dove non si capisce niente cioè il rapporto segnale l'umore di fondo è a mio sfavore questo è l'inizio dell'universo fine dell'universo primo punto poi succede il casino punto numero due punto numero tre ritorna all'unogramma però questo programma ha una differenza quando io faccio dei zoom su ogni pixel ogni pixel ha una madonna perfettamente ben identificabile dentro cioè è vero che io sono Rossi Giovanni è vero che io mantengo la mia identità ma è anche vero che io sono esattamente tutto l'unogramma per cui in quel contesto l'unica e la particella sono diventate la stessa cosa e in quel contesto io non mi pongo più questa domanda che mi pongo ora perché sono ancora parcellizzato dell'identità di me stesso quando comprendo che la mia identità non ha senso perché ha senso solo se c'è il concetto di separazione allora l'altro è separato da me ma quando vedo che l'altro in qualche modo riesco a comprendere che sono io io sono la madonna ma va risciata questa cosa perché capisco che non è semplice a chiusire questo concetto torno subito passando attraverso l'esperienza credo che ci possa caratteristico perché uno si sveglia avanti e dice io ci ho provato a fare una domanda alla coscienza a chiedere questa cosa ma ha detto ci penso io bene lavoriamo su ci penso io ma ha detto devi prima morire e ho detto questo va beh d'accordo capito ma poi ci penso io poi ci penso io non è una risposta non è una risposta che non ti credo non ti fare non a te io lo so bisogna dire la coscienza perché mi sono capitati la coscienza dice non ti fare di insegnamento grazie grazie buonasera professore allora io sono un po' toccata nel fiorito perché perché mi capita una torri bella la sera di sentire delle voce confuse tipo un effetto radio e la mattina una voce non so che mi dice ciao e questa cosa mi spaventano un po' credo se questi effetti collaterali sono confrontati o dunque ovviamente posso dare una risposta vaga perché non sono all'interno della situazione la coscienza non ha bisogno di saltare nessuno diciamola così il salutare qualcuno vuol dire che prima non c'eri poi ci sei e quindi ti saluti la coscienza c'è sempre tutti i discorsi che vengono fatti da pseudocoscienze di passaggio che sono discorsi duali o immagini duali o visioni duali sono sempre molto sospetti quello che il parassino di turno l'alieno di turno o la nostra stessa volontà mette come bastone fra le ruote per il raggiungimento della coscienza è però abbastanza facilmente scavalcabile diciamo così aggirabile se uno va dritto nel suo percorso mentale cioè seguire le istruzioni precise dei ticini senza sbagliare nel libro e dico questo perché la gente non lo fa ho fatto i ticini ma non è venuto allora scusate ma come l'hai fatto l'ho fatto così 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 ma non c'è scritto di fare così c'è scritto di quindi c'è scritto di fare in un altro modo ah ma non è lo stesso no non è lo stesso allora c'è scritto così si fa così prima si chiama la parte mentale poi si accende la parte spirituale poi si accende la parte linea poi si guarda di che colori sono poi si guarda il resto c'è nella stanza non ce ne frega una mazza ci può essere la la portarei il cremanzo nel fondo non ci interessa facciamo quello che vogliono noi con le nostre tre sfere andiamo avanti e facciamo un'unificazione avendo cura di comprendere esattamente se le tre sfere sono quelle che dicono di essere ma di questo ci si accorge immediatamente perché se le cose non sono così noi non ci fediamo qualcosa dentro di noi ci dice no no non è quella non è quella non è quella fidati delle tue sensazioni salve ho una domanda la cosa che non è chiara è la lotta per le anime tra cimone e cimone l'uomo primo quindi alla fine del nostro percorso la nostra salita alla coscienza piuttosto che essere intrappolati dal buono primo e cosa si può fare per andare direttamente alla coscienza e non farsi fregare dal confine c'è una parola sbagliata c'è una parola sbagliata che è salispetta è discesa giusto non so non dico subito perché qualcuno mi sta dicendo venga allora c'è una storia e la storia del mito e bisogna un po' credere anche al mito perché il mito poi l'abbiamo detto di loro quindi sicuramente molto 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 quando è che il mito sbagli è quando noi non sappiamo interpretare e quando non lo sappiamo interpretare è quando noi abbiamo la possibilità di sbagliare sostanzialmente però le cose quando la coscienza si divide in due e crea dualità ha la necessità di creare due creatori e a questi due creatori si va la coscienza e dice senti io ho fatto l'esperienza la divisione ma non c'è mica capito niente per favore mi dividi te così io vedo che cosa vuoi dire e la coscienza si fa dividere in un anno in un momento in uno spirito perché i creatori stanno creando un universo virtuale tridimensionale quindi hanno bisogno di dividere in tre le cose è una necessità fisica la realtà virtuale è su tre piani spazio, tempo, energia campo elettrico campo magnetico campo magnetizionale x, x, z quindi noi che siamo poi alla fine di tutto la coscienza abbiamo deciso di farci cambiare noi abbiamo deciso che avremmo fatto l'esperienza della divisione noi abbiamo deciso che un giorno sarebbero venuti gli alieni a farci questo trattamento noi abbiamo deciso che gli racconti falsi dei della Pistis e Sofia avrebbero creato un contentore in cui Eva e Zoe le due parti alimiche di destra e di sinistra sarebbero entrate e in quel contesto avrebbero debellato l'uomo primo che è l'acconte sostanzialmente l'acconte il falso Dio quello che si fa passare per Dio quello che durante l'ipnosi diceva la paternita io ti ho creato e poi non è niente questo è quello che succede in questo contesto siamo noi stessi i faltori del nostro destino ancora una volta cioè se noi siamo qui a sbatterci su questa cosa è perché noi abbiamo dato in via questa cosa e abbiamo deciso che le cose devono andare in questa direzione ora e quindi poi quello che è successo è che l'universo sia dissimitrizzato cioè mentre la parte alimica blu che il nostro cervello archetipicamente indica con il colore blu la parte alimica di questo universo semi-universo ha fatto l'esperienza della sottomissione al nuovo primo la parte alimica gialla è scappata e l'unico modo che poteva avere di scappare in qualche modo è di rimanere in questo universo di non entrare nell'altro universo nessuno l'universo di Shiva e quindi noi ci siamo trovati con la parte alimica di Visnu e la parte alimica di Shiva che in realtà sono le nostre parti alimiche che noi abbiamo affidato a Visnu e a Shiva perché ci facesse un po' quello che ci voleva che voleva ora noi comprendiamo questo fatto comprendiamo innanzitutto che la parte alimica gialla è più Vispa cioè ha capito un sacco di cose mentre la parte alimica blu le nepe nosi poverina il mio babbo con la barba mi ha detto che lui è il mio babbo la parte alimica gialla è più guerriera è più non me ne frega è più incazzereccia è quella che si libera prima è quella che vorrebbe subito sono due esperienze differenti giustamente l'esperienza della sottomissione l'esperienza della ribellione vedete che in questo contesto anche come tutto accade in modo speculare tutto è chiaro che noi ora abbiamo l'uomo primo il quale altro non è che un mezzo che noi abbiamo creato perché dall'esterno ci facesse ricordare in qualche modo con i suoi sistemi che noi siamo la creazione nell'istante in cui noi comprendiamo questo l'uomo primo non fa né una buona né una brutta fine non c'è più perché a noi non serve più e verrà riassurdito nella creazione anche noi siamo un po' l'uomo primo l'uomo primo è quella parte di noi che è creduto che poteva fare a meno dell'esperienza della vita della morte e allora l'ha fatto fare a qualcun altro che però in realtà è una propagine di se stesso quindi sostanzialmente poi alla fine l'uomo primo non ci sarà più ma non perché viene ucciso distrutto eliminato da noi ma perché nella creazione non si distrugge nulla tutto viene riassorbito in quello che io sono quando il il mio gatto muore poverino chissà dove va non va da nessuna parte diventa io torna dentro di me se nella realtà virtuale noi la creiamo in base anche alla nostra consapevolezza ma della nostra coscienza come possiamo affrontare alcune tematiche tipo il mondo felice io scelgo l'assenza dei soldi perché è indice di separazione però nella realtà virtuale che io mi creo comunque di fatto ci sono perché sono al nostro tra vivo quindi come fare su questo è andato da mente per esempio se io ho poca coscienza di me stesso gli altri possono agire dall'esterno c'è anche i personaggi agire sul mio mondo perché io avendo poca consapevolezza posso essere predati per esempio in questi giorni con la storia dei vaccini ci sono milioni di italiani che darebbero chissà cosa per cambiare da un punto di vista la realtà virtuale grazie allora vediamo se riesco a fare il punto della situazione è chiaro che il mondo che dice è qui ma lo dobbiamo realizzare lo dobbiamo vedere lo dobbiamo creare benissimo ed è chiaro anche che una singola consapevolezza una singola coscienza nel suo mondo nel suo piccolo nella sua giornata può fare qualcosa per sé ma sicuramente non può allargare l'ombra della sua consapevolezza su tutto l'universo perché deve rilasciare che tutte le parti di te con il tempo che gli ci vuole acquisiscano la consapevolezza questo è un problema che io comprendo molto bene perché quando vedo una parte di me c'è un altro che fa fatica a comprendere una cosa sono molto dibattito dal fatto che vado e glielo dico glielo faccio io taglio e poi so che non è possibile quindi devo dare un po' di più del dolore allo stomaco ma la necessità di attendere che lui capisca però io cerco di fare che cosa? di capire profondamente io le cose perché comprendo che se mi appare uno che non ha ancora capito bene perché io dentro di me c'è qualcosa che non ho capito perché l'altro è sempre lo specchio di me quindi l'unica possibilità che io ho come ricerca generale è lavorare su di me e non posso fare nient'altro sull'esterno ma l'esterno diventa me appena possibile diciamo così come prima cosa aspetta che sto cercando di guardare la seconda parte della domanda vaccino ah dunque sì i soldi allora cosa succede in questo contesto? in questo contesto succede che io cerco di essere il più coerente possibile per quanto mi riguarda quindi se io devo manipolarmi i soldi e ne devo manipolare una certa quantità cerco di manipolarne meno di quello che normalmente hanno fatto perché comprendo che almeno una grossa quantità di soldi che manipolano non serve a niente quindi possono manipolare ad esempio ho una macchina devo comprare un'automobile che costa 20.000 euro compro un'automobile che costa 8.000 euro è banale no? perché vi costerà di meno userò meno assicurazione pagherò meno benzina ma è più brutta non è più brutta è quella che poi alla fine mi permetterà con questa decisione andando avanti nel tempo di comprare una macchina che costa sempre meno e poi non comprare più nessuna macchina perché nel frattempo con i soldi che io non ho utilizzato non ho implementato implementato l'industria degli automobili le quali si saranno come si dice riadattate a costruire più autobus sostanzialmente questo è quello che io mi aspetto che succeda e se i calcoli fatti sull'entropia sono giusti deve succedere deve accadere ovviamente quello che io faccio è cerco di fare tutti i giorni qualcosa che vada in quella direzione a volte ci riesco a volte non ci riesco ma il trend è quello quindi sostanzialmente perché comprare il telefonino ultimo se ho un altro telefonino che mi funziona benissimo non ha senso cioè perché farmi fregare da quello che è l'indicta dell'industria si disse l'ultima volta a Torino l'industria come ti governa ti governa creandoti dei bisogni e dopo dicendoti hai bisogno di un telefonino ma che non è voglio ma prima ti aveva creato il bisogno di un telefonino e allora te non ci caschi e dici sì io il telefonino non mi serve perché perché io quando ho bisogno di parlare con qualcuno ci parlo con la testa e mi riesce sostanzialmente mi riesce quando io devo chiacchierare con qualcuno e devo dire qualcosa di importante a qualcuno quindi mi telefono da solo ma anche mi telefono io mi successe tanti anni fa facciamo un esempio con una ragazza di delle parti di massa era una addotta di dove lavoravamo e non la sentivo più da un anno e mezzo perché lei aveva avuto dei problemi familiari mi disse guarda risolto i problemi familiari poi riprendiamo le idonosie e allora si facciano le idonosie passano un paio d'anni io un giorno mi sveglio la mattina e gli dico grazie sento che questa ragazza mi deve telefonare però passa più paio d'anni non c'era nessuna possibilità che io avessi qualche premonizione allora vado in tanti metto prendo il mio telefonino metto sulla scrivania e lo guardo e dico tanto lo sento che mi telefono lo sento che mi telefono lo sento lo sento forte niente torno a casa la sera mi sono immaginato tutto lo sapevo è una sensazione non ne avevo niente eppure porca ma io avevo questa sensazione forte mi vado a letto mi sveglio il giorno dopo sento forte questa cosa di questa roba che mi deve telefonare porca puntata mi deve telefonare mi va ad ogni partimento mi metti i telefoni e ti faccio il mio lavoro il sole il telefono era lei ciao sono io come stai sono passato due anni mi sapevo dire delle cose eccetera e gli dico ah non sapevo che eri te ah si lo sapevi si lo sapevo che eri te che mi avessi telefonato io lo sentivo sono abbattuto solo che ho pensato e non ho pensato che mi avessi telefonato niente e invece mi hai telefonato oggi e lei sta un pochino niente dice no ma in effetti ti ho telefonato ieri ma te non ho preso la linea e non mi hai risposto questo cosa vuol dire potrei raccontare decine di questi episodi che mi sono capitati decine e ti capitano più ne fai ci fai caso perché? perché questi non sono esagoli sono cose che accadono a tutti ma te mi conosci solo quando ci fai caso quando ci fai caso allora ci fai un pochino ma lo sai che non era al canno ma lo sai che è successo questo ma lo sai che è successo questo delle cose incredibili 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 nel vero senso della parola per cui mano a mano che noi andiamo avanti in quella direzione lì magari non succederà oggi non succederà fra un mese non succederà fra un anno ma fra due anni te avrai il bisogno di telefonare a un tizio e lui ti telefonerà avrai bisogno di parlare con un tizio lui ti scrive una mail avrai bisogno di comunicare una cosa e qualcun altro avrà già pensato a comunicarlo piano piano la direi di trend è quello lì e come succede a me succede a tutti basta che ci fate attenzione e per il piano di tutte le famiglie italiane per vaccini che non vogliono questo tipo di realtà questa forza questo tipo di realtà che non vogliono è legata anche a un altro tipo di realtà che invece gli italiani cioè gli italiani si sente un pochino è solitato gli italiani è vero che hanno questo problema per esempio dei vaccini però legato al problema dei vaccini loro devono decidere bene altre cose molto importanti che sono legate bene o male direttamente o indirettamente al mondo dei vaccini loro non possono decidere di non mangiare solamente la parte con la cioccolata della torta devono decidere di non mangiarla tutta e allora in quell'istante che cosa succederà succederà succederebbe se facessero così che i vaccini non avrebbero neanche più prodotti facciamo un esempio gli studenti di chimica di pizza si vogliono laureare in chimica non vogliono sapere la chimica non ne frega niente della chimica loro vogliono laurearsi in chimica è una cosa ben diversa quando comprenderanno che nessuna ditta li assumerà male perché non sanno una mazza cercheranno di correre ai pari ma è probabile che sarà troppo tardi che cosa bisogna fare? gli italiani devono incazzarsi cioè devono fare una cosa che stanno già in parte facendo non vanno più a votare il 50% di italiani non vanno più a votare e questo viene visto dalla classe politica come il disavoramento della politica con la motivazione del fatto che gli italiani stanno perdendo il senso civico no gli italiani stanno acquisendo il senso civico cioè stanno comprendendo che nessuno dei gruppi parlamentari li riconosce li rappresenta più e stanno riconoscendo che quindi l'unica persona che può rappresentare l'italiano è lui stesso prima non voti più quando vanno a votare tre persone comprendi che il partito politico non ha più ragione di esistere e in automatico succederà quello che deve succedere e te non avrei fatto niente però nel caso dei vaccini è evidente che c'è l'italiano per esempio è un popolo di malattie immaginario te io sono in questi giorni in ospedale per fare tutta una serie di cose e mi rendo conto come il medico mi dicevo prima parla con la mattina ma non parla con paziente ma mi rendo conto che ho usato di altre cose cioè quando te c'hai il malato va a quanto soccorsa a farsi curare la mia carnina giustamente perché il malato che cosa c'ha l'italiano sostanzialmente il 80% di un'anima c'ha a paura di morire o il 100% a paura di soffrire con un tipo tagnetto e cosa succede? gli ospedali si ingolgiano di spese inutili che non servono assolutamente a niente il medico ti riempie di analisi perché ci guadagna con le analisi che ti fa fare il medico ti dà un casino di pastini da prendere perché così ci guadagna con la casa farmaceutica che ti paga le vacanze alle Hawaii ecco l'italiano oltre che rifiutare i vaccini deve rifiutare anche questa parte della medicina perché se no non funzionerà in un soggetto con sindrome post-traumatica che ha generato disturbi dissociativi e ha lavorato dunque per l'integrazione della sua personalità se si trova parassitato nella parte mentale nel nostro caso da un incubato con il PCP si rischia di dare il danno al soggetto chiedendo di definire le personalità che precedentemente aveva l'altro di sé no dunque ci sono dei casi di letteratura c'è un caso di letteratura trattato con l'ipnosi regressiva a meno 30 anni fa a Londra di una persona che aveva 35 personalità sotto personalità 35 35 sotto personalità 35 con le ipnosi regressive esatto no spettiamo sì con le ipnosi regressive vengono tutte alla luce una per una e vengono eliminate 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 e alla fine la sua unica vera personalità quella finale allora nè con quando noi facevamo le ipnosi quello che venivano fuori erano tutte le personalità aliene che si combattivano tra loro noi ci divertivamo a farle scazzare tra loro sì facciamo così né mentre la personalità aliena esce si mostra e dice quello che chi deve dire la parte anemia la vede la sente la ascolta te fai parlare un attimino l'alieno cresce dopo dieci minuti che parla e ti ha sfogato tutto il suo ego la parte alienare voglia maschilista tremenda sempre te cambi direzione e dici la sua parte anemia vedi cara parte anemia vedi quello che parla l'hai sentito l'hai ascoltato quello è il tuo parassita ce lo vuoi dentro sì o no se non ce lo vuoi lo devi mandare fuori ora subito e te vedi che l'alieno cambia voce no parliamo eccetera 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 lei cominciava quella che era identificata come l'esorcismo tecnologico no lo facevamo così la parte anemia poverino ma lui ha bisogno di energia certo che ha bisogno di energia però lui ora poi con la tua energia ci farà dei film e se i figli uccideranno cosa ne pensi cioè crea sempre un contrasto forte fai comprendere esattamente alla parte animica quello che sta succedendo ti ha chiesto il permesso no lo sai che cosa ti succede ti prenderai ti metti in una gabbia è quello non ci credi guarda nel tuo futuro che fa se non fai nulla che cosa ti succede te che lo puoi fare guarda no 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 cominci a dire la parte amica no 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 è così no eh no perché la parte amica indagata no 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 allora cosa vogliamo fare lo mandiamo fuori lo mandiamolo fuori via grazie prego bene grazie a tutti buon figlio a tutti grazie grazie a tutti voi perché chi è a casa chi si vedrà conferenza tutto quanto e ringrazio voi chi siete qua presenti perché altrimenti non si farebbe la conferenza una sola cosa una sola cosa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti